Direi... dov'è... pub dell'amico ragazzi Eccolo lì, via! Come stai Matt? Rissalati già a crepapelle così? Come stai Matt? Tutto a posto? Sto benissimo, sto benissimo, com'è? Sapevi? Birra, birra, l'olmaia, 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 buona, ambrata, un po'... La birra dei maia, via! Ma poi guarda chi è tornata... come? Come stai? Eh, te l'ho detto bene, grazie Matt! E via! Guarda chi è tornata, Lucilona! Ciao! Come state? Tutto a posto? Bianca e nera oggi, no? Mi sembra? No, è marrone! No, è tipo ringo! È marrone, sì sì! Ma il ringo è nero però, bianco e nero? No, è bianco e marrone scuro! Eh, così! Ma scusa, quando si danno il cinque... Ma quelli sono bambini, cosa vuoi dire? Quelli sono bambini, comunque non è proprio nero, nero, nero! Allora è pubblicità ingannevole se ci pensi! Eh sì, sostanzialmente sì! Lucila, qual è la pubblicità che ti è rimasta più impressa? Direi quella tabù, tabù, tabù! Va bene! Ma a te invece, non parliamo di quella pubblicità, ma a te invece... Io invece ti dirò la prima che mi è venuta in mente con questa domanda via, ma non lo so perché mi è venuta in mente questa via! Te la riori oggi? Chi trova sole non lo lascia più! Era bellissima quella lì! Però guarda che ci sono dei jingle pazzeschi! Intanto diamo il bentornato al mai sempre verde, al mai abitué di questo salottino! Surry! Ciao Surry, benvenuto! Tremendo Surry! Buon so, buon so! Tra l'altro mi sono emozionato guardando la sigla, ho dovuto ssegarmi, però per ripicca, visto che non ci sono ancora dentro, mi sono fermato all'ultimo! Perché ho detto... Non ci sei ancora dentro, è vero, è vero, è vero! No, questa cosa mi è dispiaciuta troppo! Ci sono degli step, Surry, ci sono... Ah, no, così, comunque ci sono degli step, Surry! C'è il pub, poi c'è la frequentazione del pub, le carte e la sigla, la sigla è proprio... Cioè, è l'ultimo, è l'Olimpo della loro... E quella è una roba che ha fatto, Simone ormai un anno e passa fa, figurati col corto che stiamo preparando con lo studio Peco, cosa cazzo verrà fuori? Stiamo facendo veramente... Oggi ho scritto la sceneggiatura in parte, due pagine per i primi 30 secondi, tipo nemmeno! E vediamo cosa cazzo succederà! Ma se io sono molto... Abbiamo già la sigla dello studio che non vi faccio vedere, perché deve essere finita e poi devo depositare il logo, quindi... Bella Martini! Benvenuto a Diego... Oh, mamma mia, il Diego Antibus, come stai? Ciao, Diego! Ciao, Diego! Bene! Io sto aspettato a mangiare, eh! Non hai ancora mangiato? No, lo so, ho staccato muo e Federica non c'è, me lo so ordinato da mangiare! Cosa? Forse si chiama Poldo! Ah, Poldo! Pappagino, quindi! Tu me lo conosci? È una catena! Oh, guarda che è tornata anche dopo tanto tempo! La nostra mammona, Chris Wizz! Ciao, belli! Ciao, Chris! Ciao, buonasera! Ciao, Chris! Vabbè, ora, Suri, comunque, madonna, impostatissimo! Mamma mia! Anche bene! Ciao, buonasera! Poi sembra che c'ha un'aureola in testa, Suri, guarda! Perché è esattamente quello che è! Poi addirittura abbiamo quel coglia... Mario! Ciao, Mario, come stai? Ciao, Mario! Ciao! Buonasera! Ciao! 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 Ciao, da mago! Ciao, Chris Wizz! Ciao! Ciao, Nanni! Com'è? Tutto a posto? Buonasera! Ciao a tutti! Ciao, ragazzi! Ciao, ciao! Ciao, Ale! La modifica al volo... Ale! No, volevo stare accanto a Nanni io! Dario, questa impostazione è cos'è? Questa è giusto per capire? Mario, sono tutto a posto! In fase di consegno! Ok! Vi stavo doppiando mentre stavo in attesa... Tipo... Manz, 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 manz! Poi è entrato al Chris Wizz! Mi sono ammutolito! Non so se sapete... Se avete mai sentito la poesia che le ho dedicato... Incredibile! No! È la mia... È la mia... È la mia crush! Sta su flips! Chris Wizz! Se vuoi... Se vuoi non smetti di parlarne, eh! No, eh! Perché si imbarazza? Non ci mancherebbe, anzi, è onorata! Io mi imbarazzo! Mi imbarazzo! Mario, prima di entrare già nel cringe, no? Con questa puttanata della poesia... Chiama la puttanata, sono sentimenti! Eh! Sì, ma i tuoi sentimenti sono di serie B rispetto alle persone... Allora, scusami, Dario... Ma le faceva sempre danni! Mario, scusami, c'è due cose sbagliate. Uno, Lucilla, cioè quindi, diciamo, la persona direta a questa poesia. Seconda cosa, stai dicendo... Cioè, stai facendo poesie. Qua ce ne può essere solo uno. Dani, devi sapere che ha un passato da poeta. Bella, esatto. Cioè, non va bene. Delle belle poesie, delle poesie molto carine. Molto carine. Non mi interessa di una, per favore, che non sono pratico. Non le voglio. Allora, c'è il libro di Nanni che si chiama Scopare la figa, che ti consiglio assolutamente. Non c'è nulla di poetica per scopare una figa, così. No, no, si chiama Scopare la figa, ma perché è tipo un flusso di coscienza, capisci? Ah, ok. Sì, sì, sì. Ecco, invece di un contest rap, facciamo una bella sfida poetica. Portiamo un po' di cultura al pub. Un po' di finge. Esatto. Portiamo un po' di cultura al pub che viene sempre danciato da Commodore Zone come un format, no? Greve, volgare. Ecco, cerchiamo di affrontare. Forza Mario, recita un po' la tua poesia del ca. Tu. No, Mario. Ma come ti permetti? Era bellissima quella poesia. Voi non l'avete neanche sentita. Mario, non scherzi. Questa è la poesia. Vieni, patos, patos voglio. Eh, bravo, su. Allora, prima di tutto, nel momento in cui si entra in un clima competitivo non rimane nulla di poi. No, ma non è... Allora, aspetta Mario, non fraintendere. Non è fraintendere. Non è che... In realtà, non è che... Grazie, ragazzi. Ma che cazzo applaudi tu, Dario? Ho detto una cosa contro quello che ho detto tu. Arrivo, arrivo. Va bene, va bene, Diego. Ah, è arrivato da mangiare. Manz! Quando... Ecco, questa è la poesia per te. No, testa di cazzo. Apri i tuoi sentimenti, ora. Avanti. Apri un OnlyFans. Vai ora. Apri i sentimenti? Vai, Mario. Recita la tua poesia. Con un bicchierino d'assenzio, tipo, dai. La prendo, quella che ho già scritto, intendi. Forse l'ho persa. No, l'hai canzonata. Ma non la sai a memoria? Non la sai a memoria? Ma no, l'ho improvvisata. E l'ho dedicata in live. Era in live. Comunque, Maceo scrive che schifo la storia dell'arte, un po' come Nanni. Beh, Morano. No, 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 no. Non ho d'accordo. Fanno schifo tutti e due. Tanto, diamo il ben tornata a Voghelita. Oggi è un po' della figlia. Ciao, ciao Voghelita. Ciao, ciao. Come stai? Ciao Voghelita. Ma dov'è Klitschitz? Lo sapevo, gli avete messo troppa tensione. Lo sapevo io. Ma perché? No, ma semplicemente se era andata a Pisciao, a cacca, come al solito. Grazie a Rafi Sirvi l'ha struzionato la buona mia. Sì, perché lei caga sempre un po' più delle altre ragazze. È una cosa che la ricorda. Secondo me caga blu, Klitschitz. Bella questa. Guarda che mare, ma migliori di settimana in settimana. Ma non è una battuta, non è sempre un concorso. Allora, volevo chiedere a Surry. Surry, qual è la cosa più pazza che hai fatto per amore? Per amore. C'è tipo un murales su un muro, una serenata, hai trombato la mamma per vendetta. No, 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 no. Ha semplicemente stimolato un contratto. Esatto. No, no, io non faccio niente per amore. Non faccio niente di pazzo. Io ho una vita abbastanza tranquilla. In realtà non... Cioè, non è che metto via a fare le cose pazze. C'era la più... Sto nel mio. Lo sapevo, è un genere. Io ho fatto una scritta su una strada, ma me ne sono subito pentito perché era per la mia ex. E non si meritava a nulla. Cos'hai fatto? Cos'è che hai fatto per strada? Una serenata? Una scritta, però la vernice quella lavabile. Ah. All water. Educato. Al tuorlo d'uovo. No, io quando ero piccolino ho assistito tipo a mio zio che faceva una serenata a mia zia per chiederle di sposarlo. E sono molto cringe. Quindi... Vabbè, ma noi... Vabbè, però magari lì per lì figo. Ciao Martina. Lo ricordo a malapena. Hola. Ciao. Ciao. Adesso faccio la posi. Adesso torno a questo, lo metto qua. Accentro a Surya, così mi torna meglio per il mio uccidio. Te invece cosa hai... Lucilla, cosa hai fatto di pazzo per amore? La cosa più pazza è stato tatuarmi una pistola che sembra un pene dal mio ex fidanzato che era un tatuatore. Ma ce n'è ancora, quindi? Non te la faccio vedere. Ve la faccio vedere. Si può vedere? Si, di breve. Si fa arte. Sembra un cazzo duro. Aspetta. Ma che cazzo dici? Ma è voluto? Eccoci qua. È voluto. Bellissimo. Bellissimo. Eh sì. Ma è quello purtroppo me lo tengo. Sto a fare un po' di un'azio ma non va via. Dopo quanto vi siete lasciati dopo quel tatuaggio? Dimmi un mese, ti prego. No, dopo un anno, dopo un anno. Ma non per il tatuaggio, ecco. No, no, immagino che non sia stata colpa del tatuaggio. Insomma, lo spero, vivamente. Ma inizio era bello, sembrava davvero una pistola. Poi che il tempo si è un po' sgadito, ora sembrava un pene. Non puoi fare un po' di un'azio ma... Ma scusa, non lo puoi coprire con un altro tatuaggio? No, perché dovrei farne uno ancora più grande. Sì, è una bella gamba. Quindi in estate, con tutto il correttore, due ore per coprirlo. Sì, sì. Ah, perché l'oro lo copri proprio, quindi un po' te ne vergogna ancora. Eh sì. Ma che cosa è vero? Perché l'oggetto, la vedi, mi sembra un... Che frega! Va bene. Che cos'è? Ah, per rassicurare di uscire, di sbattersi nel caso. Poi è grossito, di carri, ma l'ha appena inventata la rota. Cioè, figurati... Ma ci stai Bob a grossito, cioè... Ma c'è. Ciao ragazzi, ci sono delle Voldave oggi! Cioè, ragazzi... Dai, non ha senso, capito? Diego, vabbè, non ti chiedo nemmeno cosa... Stai mangiando, stai mangiando. Qual è la cosa più pazza che hai fatto per amore? A parte portarla da Alibaba, su cui sorvolerò. Per amore? Appena detto, però. Lasciare Rocca di Bava, i miei gatti e venire a Roma... Al Pigneto. Sai che forse ci batti tutto, tutti nonostante tu sia il secondo ad aver parlato. Però è vero, è la verità, penso che sia difficile. Questo mentre sbrana delle costolette. Vabbè, interessante. Oggi ho letto la dieta migliore per vivere. Quale sarebbe? Dove l'hai letta? Su una roba che mi ha dato Federica, da un nutrizionista. Cioè, stanno 7000 zuppe e c'è scritto pomodoro mai, zuppa di pomodoro mai. Muori, col pomodoro muori. È vera sta cosa? Non lo so, ve lo chiedi a noi. Il pomodoro lo mangiamo abbastanza frequentemente. Buonissimo il pomodoro. Sto facendo una pasta di pomodoro, lo devo smettere. Sto facendo una pasta di pomodoro, lo devo smettere. Strano, Martin, che tu stia mangiando o parlando di cibo o preparando del cibo. È molto strano. O di tecorino. Vabbè, infatti pensavo, it's my time to shine. Si sta parlando del cibo. Io l'ho già detto, Nanni, vabbè, ho paura quasi a chiederlo. Però lo chiederò lo stesso. La cosa? Più folle che hai fatto per amore. Beh, quando stavo in Irlanda, tornai... In Irlanda si è stato pure? Sì, cinque mesi a Dublino. Tornai in Italia e avevo già il volo protato per la Finlandia, con il lavoro già pronto. Siamo in dieci. Qualcuno del Cerbero vuole entrare a blastarti, ma non ho capito uno chi e due siamo in dieci. No, bellissimo. No, non blastare lui, il Cerbero intendo. Sì, sì, sì. Ma su, Cacerbero. No. No. Congestali. Vai, fai il video su questo, Cacerbero. Allora, scherzo. Un bacione a tu. Non scherzo. Piccola gag. Parliamo noi adesso. Poi domani non sai cosa... Mi fate chiacchierà, eh. Allora. Sì, scusa. No, no, ci mancherebbe. E quindi tornai dall'Irlanda. Non girare il pomodoro. Avevo già il volo prenotato con il lavoro... Bello. ...in Finlandia e non sono partito e non ho preso il volo e ho rinunciato il lavoro per rimanere qua a Pisa per provarci con Atipa. C'è per provarci, per mandare avanti a una relazione che nacque in quelle due settimane di mia permanenza e che fu abbastanza prepotente. E poi ci lasciamo un mese dopo. No, che sfiga, cazzo. Cioè, lei mi lasciò. Mario, io per pietà ti faccio la stessa domanda. Ma non iniziare i pipponi con le tue ex, mandandole tutte a far culo, eccetera, perché sennò vengo lì a Milano e ti inculo. Vai. È una premessa che mi mette le mani legate, devo dire. Comunque, non penso a una follia. Cioè, se mi fai questa domanda penso, boh, sempre. Quindi tutto e niente. Ho sempre fatto gesti molto estremi. A una ragazza ho regalato un libro di poesie perché gliene scrivevo ogni giorno perché era quarantena. E avevo il cervello fritto, veramente molto fritto. E ogni pagina era un giorno, quindi c'era anche questa evoluzione di rapporto. Quindi dai, diciamo questo. Ok, vabbè, però, cazzo, una poesia al giorno per tutta la quarantena deve essere stato un incubo per lei. Fantasia, eh. No, 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 lei era un appassionato, eh. Ma è un diario smemoranda. Lei era un appassionata. E, tipo, nel momento in cui ho saputo che a Chris Fitz non piacciono le poesie ho cominciato a disegnare delle best wife. Ma scusa, Mario, chi era? Mario, ma stai scesando quelle che ho deciso io, scusa. No, non le ho viste. Ma scusa, Mario, ma era un appassionata di poesie? A lei piaceva un sacco. Ma quanti anni aveva? A 84 anni, quanti anni aveva? Ma poi era ancora peggio se le piaceva. Cosa stai cercando di dire? Che alle giovani di oggi piacciono gli rape al massimo, alle poesie no. No, era una mia coetania, aveva 23 anni, 23, 22? Sì. In che sensi rape? Che vuol dire sì? 23. Mi ha detto sì, ma che cazzo ne sai? Vero. Va bene. Matte, Matteo, lo sai che non saprei dire? Cioè, non ti vedo romantico, ti vedo una persona un po' rozza, no? Picchia anche, no? No, scherzo, scherzo. Ma meno male che c'è Diego che mi difende, perché, non lo so, ti sembro uno che fa queste cose lì, poi? No. Due sculaccioni l'avrà dati, dè. Vabbè, ma quello cosa c'entra? Io comunque di pazzia. Io comunque di pazzia, se la posso dire, è tipo che convivo con Giulia da nove anni e sto con Giulia da nove anni, perché noi siamo andati a convivere dopo tipo quattro giorni che ci conoscevamo. quindi... Ah, beh, quello... Ma non solo unico matto. No, vabbè, te, Diego, cioè forse Matteo è più matto di te, perché Matteo dopo quattro giorni, te dopo due mesi, tipo? No, cinque mesi. Cinque mesi? Ma mi sembrava meno. Ah, ci sta. Beh, insomma, no, ci sta, se c'è il sentimento e tutto ci mancherebbe. Eh, fa un po' paura. Secondo me dipende anche dall'età. Più che altro è stata la prima volta cinque mesi. Sì, sì, è vero. Eh, forse più per la prima volta che per i cinque mesi. È una combo di fattori, sì. Te invece, Cri? Allora, io... Ma mi sentite? Sì, certo. Limpi. Allora, questo oggettivamente non c'entrava molto, però prego, Cristina. No, parlavo un anno, non continuo. Io per il mio ex avevo scritto ti amo Kiwi, che era il suo soprannome, nel muro di casa del vicino, con la bomboletta. Hai sbagliato o era voluta questa cosa? Scusami. Pensavo fosse a casa sua. Ma le murette a secco e li fatti con le pietre di Manon Sardegna. Ma che carine. Ma fa un culo. Ma quelli li sai fatti... Io l'ho fatto con la pietra pomice, cioè le bombolette ancora non sono arrivate, mi sono confusa. No, no, con la bomboletta comunque. Ed è stato molto... Il vicino si incazzò veramente tantissimo. Porca troia. Cosa dice? È pronta per 10 minuti la pasta. Grazie Martino. Grazie a tutti per averci segnato. Non vuole imprire. Ah no, sta parlando con Alexa, ha impostato il timer. Suri abbiamo detto niente, sono ingroppate, schizzate, sburate. E... E no. Tutto plane. Volper... Volgerita, scusami, dimmi qualcosa che ti vuole che hai fatto con... Per amore? Ma io credo che ho fatto con pazzie quando mi sono lasciata perché per amore, però... È ben detta. Eh sì, minchia, è un botto. Però no, però credo... Ma tipo? Tipo... Animali morti spediti... No, no, con tre animali morti. E poi è infilato. Sì, sì, le tre. Non penso sia amore. Poi la voleva financia la famiglia, per un short. No, però c'è un sito online che tipo ti vende merda gli animali, volendo anche tipo elefanti. È buonissima, è buonissima. In che senso è buonissima? Davvero? Scherzo? Eh no, quindi... Però per amore, boh, mi sono andata a convivere dopo un mese, credo. Quella forse la pazienza. Ma io non la definisco come pazzianda a convivere, cioè. Vabbè, dopo un mese? Vabbè, dopo un mese sì, forse, come diceva Diego, però. Vabbè, te Martina, per amore, è la cosa più folle che hai fatto? A parte se è uno molto riservato, però se vuoi rispondere. No, no, beh, guarda, le cose... Ti posso dire, in linea di massima, le cose più folli che ho fatto nella mia vita sono sempre state legate all'amore. Perché è di per sé una roba abbastanza contraria alla ragionevolezza, no? Quindi chiama a sé tutte le cose più irrazionali. Certo. Però se devo pensare alle cose tra le più folli, sicuramente sono state quelle violente. Io le volte, le volte che sono caduto nella violenza nella mia vita è stato per l'amore. Sì. E' fatto a botte con uno per una donna? E lavoriamo, magari? No, non vi immaginate lo stereotipo del ragazzo sguoso che, però, sì. Le volte che la violenza ha fatto capolino nella mia vita è sempre stato legato all'amore. Una singola artenzone. Ma oggi è un po' Antonio Bandela. È vero, oggi è un po' Antonio Bandela. Io sono stato menato per amore. È vero? Sì, l'unica volta che ho ricevuto delle botte in vita mia, però il ragazzino c'aveva avuto 16 anni, 15 anni. Perché l'ha nominato? Ma l'ha nominato perché... Perché era un merda. Non c'entrava questo, non era bullismo a scuola, era un'altra cosa. No, perché la mia primissima ragazza aveva questo ragazzo, aveva questo ex ragazzo molto geloso, morbosamente geloso. Raul, che se entra in casa ci spacca le botte a me e a noi. Insomma, a un certo punto ci beccò in giro per il paesino, mano nella mano, e mi venne addosso e mi iniziò a menare in un'aiuola. Io mi feci menare perché io lo sapete che non rispondo mai. E quindi basta e poi se ne addosso. Questo diazio. Merda. E vabbè, ma che vuoi che sia. Raul! Non hai uola. Non fanno zampate. Vabbè, così si pigliano anche volentieri. Zampate? Non volentieri magari no, però. Si pigliano. Ma prendiamoci, mi piglio il calcio. Ma lo sono anche venita. Alle ossi. A te. Mi sa che la riserva di questo mese è particolarmente buona, perché Matteo è uno. Lo vedo più allegro questo mese. E invece faccio una domanda più complessa. Invece la più grossa follia è parte di nuovo dall'uscita. Tutto a posto, Diego? No, vedi un attimo dietro al separe che c'era qualcosa. Eh, ho visto infatti, qualcosa si muoveva. Parto di nuovo dall'uscita. La cosa più folla è che hai fatto per amicizia. Per amicizia? Eh, 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 ti volevo, bua, eh? Oh, oh! Arbargo! No, è una cosa un po' cringe, non so se raccontarla, però vabbè, dai, ci sta. Ci sta, ci sta. Allora, c'era questa mia amica che usciva con un ragazzo, che era un po', un po' arzillo. Cioè c'era duro? No, no, nel senso che non era molto, molto fedele, ecco. Ah, ok, trombavo con quell'altro. E allora mi chiese di metterlo alla prova. Quindi che feci? Lo contattai su Instagram, dicendogli se ci potevamo vedere. Capito, l'uscita di Europa mi avrebbe, c'era pure Dio in persona in quel caso. E' un imperatore. Grazie Nani per aumentare la mia autostima. Una piccola pausa. No, e quindi scrivessi dicendo se ci volevamo vedere e lui disse di sì. Fuck. E quindi lo disse alla mia amica e litigarono e fine. Magari ti avrebbe chiesto per tutto l'appuntamento di lei. No, non penso. Ma che cosa c'è da ridere ora di questa salivazione? Ma ogni due secondi c'è un rutto, no? Ma è un perito il rutto. No, vabbè, no, no, ma mi dico a Diego, a riso, ci ha finito il racconto. Ah, 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 cioè buono. Mi salate a cremapelle. Io scatto quando Diego ride per i rutti, capito? Ah, è tutta una catena di re. Il trigger, sì, sì. E invece Nanni, Nanni, ma... Ah, no, Diego, Diego, cioè, però mi stavo cercando Diego. No, non ho capito la domanda, ma poi ripete, no? È difficile, la cosa più difficile che ha fatto per amicizia. E' la cosa più folla che ha fatto per amicizia. Ah, ho fatto due partite dei caccetto consecutive. Ma mezz'ora, mezz'ora o un'ora, un'ora? No, no, due partite interi, oh. Allora, se portate ora, sei manco. Sei da ricovero covatto, eh. Ma sei stato... Se no ci rimane i mano male, capito? L'ho detto, no, vabbè, vengo tutti a due, dai. Manco i cinquantenni... Ma sei stato in porta. No, no, fatto la partita. Ma comunque, Diego, non è tanto una follia, secondo me. Fallo tu, fallo tu che sei antisportivo. No, è che sono antisportivo, non so giocare a carcetto proprio, cioè non so fare niente. Mi rompo un due, cioè non sono nemmeno le vere. Ma è vero, ma è vero perché non ne hai mai provato. Ma va, non c'ho il fiato, penso, di una tartaruga morta. Ma chi ne sai, scusa? Ma se tu ce l'abbiamo. Ma hai fatto la fisica da regazzino, sì? Eh? Hai mai fatto la fisica da regazzino, sì? Ho fatto palla a nuoto, ma tiravo le scarpe del Lenzi in cima all'armadi e poi ho fatto palestra. Dopo due mesi, tipo, quasi ci buttarono fuori perché se andò io e Florio in doccia, dopo l'allenamenti, entrò uno a casa, uno spogliatoio e feci... E non mi guardavo! E non mi guardavo! Arrivò a prendere la palestra, ci fece un culo grosso, sì, e stavano. Sì, 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 però era proprio quello. Era proprio quello. E non mi guardavo! E non mi guardavo! Che era dentro una gag e ci hanno buttato fuori. Ma non... Nanni, invece? Nanni, immagino, romanticone, sentimentale. Oh, non lo so. Forse non è pienamente... Cioè, unicamente per quello, però direi anche ritorno all'Australia. Comunque è stato anche un forte fattore. Non è unicamente solo per quello, per essere onesti, ovviamente. O se no, una volta rinunciai a una ragazza che mi piaceva molto. Quello sì. Quando facevo le foto al papà figo, sì, sì, che c'è un amico che era innamorato, la tipa invece si invaghì di me e, nonostante piacesse molto anche a me, il mio amico mi chiese di farmi da parte e io mi chiedi da parte. È vero, anch'io. Ma c'è penso curioso a queste cose d'amore con gli amici. Cioè, vabbè, dai, me ne troverò un'altra. Poi... Cioè, si cominciano in tante. No, Dio, si cominciano in tante. Una cosa folle mi sembra una cosa super attonevole, dai. Un problema di me. Beh, non tutti ragionano così, Martino. No, 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 no. A volte ti fanno, ma vaffanculo, te la trovo un boh, basta. Mario, invece? Vai. Per amicizia. Io avevo un uso molto comune con i miei migliori amici, cioè di fare le feste a sorpresa. E le facevo tipo super spettacolari e sono arrivato a un punto in cui avevo organizzato questa festa, come avevo detto l'altra volta, di C& Marvel. Quindi, mi sa di dire, negli ultimi tre anni, per amicizia, ho anche subito un funerale finto nei miei confronti. Cioè, mi hanno rapito, mi hanno veramente rapito, pensando... Quindi, io ho veramente gridato aiuto, pensando che fosse un reale sequestro. Mi hanno portato alle prove dei Merrino, un posto dove facevano video, eccetera. E mi sono ritrovato queste 25 persone, tutte queste di nero, con la candela, a fare il funerale. E loro non mi vedevano. Cioè, facevano finta di non vedermi né di sentirmi. Fino ad arrivare a un posto, tipo una bara, dove mi hanno messo. Quindi, per follia, ho organizzato un sacco di cose, per dire, nella maniera più complessa, ti voglio bene, alla fine. Ho organizzato feste incredibili. Va bene. Ah no. Guarda, se per amicizia mi... non lo so, è da quando hai fatto la domanda alla prima persona che non mi viene in mente nulla di particolare. La cosa più pazza che mi viene in mente è quando, l'ho raccontato settimana scorsa su YouTube, è successo una volta in Giappone, siamo finiti una serata in karaoke. È una serata in cui eravamo mates, più qualche altra gente comunque dall'Italia, più dei nostri amici, amiche giapponesi. Quindi è una serata abbastanza, diciamo, spinta a livello alcolico. E a un certo punto delle persone sono diventate un po' moleste nei confronti di altri clienti, così, e mi sono ritrovato io con questa persona... Castecante! Sì, esatto. Mi sono ritrovato con questa persona in spalla che la stava accompagnando in bagno. All'ingresso al reception c'era questo baracchino che era fatto palesemente di carta pesta e questa persona inizia a colpire il baracchino, non so per quale motivo. Arriva il cameriere incazzato come una faina che inizia a spingerci e lì ho rischiato... cioè, rissa. Ho rischiato, insomma, di fare ammanate con questo cameriere giapponese per evitare che le persone, insomma, facessero cose. Però è la cosa più pazza, ma in realtà è una rissa mancata, quindi non è che ci sia questa grande pazzia. Mai visto il buco di culo di anima? Sì. Ok. E... Matte? Così? Ah, domanda così, ha un passato. Succede. Io, a parte, tipo, rinuncia a una ragazza, ultimamente... una l'ho fatta ultimamente, secondo me. Cioè, venire con te vestito in pijama... Va bene, tranquilli, sì, sì, sì. Eh no, però sono stato bene, cioè, per un amico, no? Non so come dire, sono stato se l'ho fatto che sta bene con un amico. Noi abbiamo fatto anche di peggio. Secondo me, se mi posso permettere di fare le tue vesci, la tua cosa più folla che hai fatto per un amico è sempre ai miei confronti. Mi hai coperto mentre mi facevo una sega in pubblico. Quella è stata... senza dubbio. Vabbè, ma eravamo... Quindi, stai emettendo un crimine? No, no, no. No, no, non c'è mai stato, in realtà. Non è mai successo, era un sogno, era un sogno. Nessuno ha mai visto niente. Sì, sì, sì. No, poi era un luogo semivuoto. A parte me. Ma come hai fatto a nascondere la sega? Eravamo... Eh, buon bello. C'era una scrivania, io mi stavo facendo una sega sotto la scrivania e Matte mi copriva. Quindi era a scuola? No, non proprio. All'orientamento di scuola, sì. Parlando con quelli che venivano a fare le domande. Parlando con quelli che venivano a fare le domande. Un grande gesto di protesta. Ma cosa che ti eccitavo in quel momento? Cioè, cosa che pensavi? Lo sai che poi ti rispondo in maniera molto sincera. E mi eccitava il fatto di farlo. Ci sta. Capisco. Infatti, lo sapevo e mi comprendevi subito. Sì, sì, sì. Di brutto. E invece, Cri? Allora, io ho pazzie nella mia monotona vita da sarda. Cioè, nel senso, non mi viene niente nulla. Favori, tipo che ho aspettato mesi e mesi per andare in ferie e poi tipo mi richiamano dalle ferie dicendo, eh, devi fare questa cosa qua e devo andare in ferie a un'altra mia amica perché c'è un viaggio organizzato. E quindi io sono tornata a lavoro. Hai mai pimpato i vermi del caso Marzu? Pimpato? Come pimpato? Però non posso dire mai. Ti metti sul caso Marzu e poi aspiri i vermi. Io ho assaggiato una volta. È vero, è quella cazzata che hai pippato sulle spalle la forfora di Marco. Che cazzo ho fatto io? Me l'ha detto Sdrumox. Oddio. Damiele ti dice che ho pippato la forfora di Marco e tu ci credi. Questo è il procedimento. Certo che ci credi. Vabbè, ma ci credo in Dio in realtà. Assolutamente sì. Ti credo anche tu. Scusami. Pochettita. Cos'è che ho fatto di pazia per amore? Sì, per amore. Per amicizia. Allora, ho finto che per due anni mi piacessero le discoteche. E quindi ogni sera si andava in discoteca. Perché non ti piace andare a ballare? Ogni sera? Cioè, mi piace ballare. Mi esprimo col ballo sempre e spesso, ma non mi piace andare in discoteca. Ma scusami. Ti fai un balletto? Esprimici la tua condizione. Lei lo fa spesso. Li fa spesso. Io ballo spesso, sì sì. In live spesso mi danzo. E io, scusami, ma non ti conosco. Quindi non l'ho mai visto. Possiamo vedere, per favore. E c'è la musica. Se non c'è la musica. E la mette Dario. Un po' un po'. Ma non la senti se la metto io? E la metti la tu. No, tranquillo. Evito. Non voglio. No, non voglio. Anche poi mi dicono che voglio rubare la scena da quelle minchia dell'acqua. No, poi su, ripresi. Quelle dinamiche dove ti rifiuto i soldi. Allora, se lo facciamo tutti, lo fai? Se lo facciamo tutti, sì. A ballare. Se bagniamo tutti, sì. Ma no, ma non lo voglio fare, Martini. Ma scusami. Ah, vedi, Martini, allora sei tu che non lo vuoi fare. Ma dai, ma il balletto. Ma il balletto è cringissimo. Ma che siamo? Io ballo. Io ballo. Di voglio l'Italia. No. Lì è fatta per un po'. Sì, eh, avevi pazienza. Ma facciamo il balletto, Gaia. E bube, 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 bube. Ma Dio Cristo, Dio, Dio. Manso. E Rubino che fa, oh, la green, faccio le lezine. Cioè, raga, non... Vabbè, ma lo puoi fare diverso. Scusami, deve essere forza come quello. Vabbè, ma il ricordo va subito a Rubino che urla. Gaia Clerici ti fa vedere zine. Comunque, eh... Sono tu. Ecco, ecco, Marra. Vedo Marra, però siamo in dieci, come posso fare? Ah, un'idea. Aspetta, arrivi subito, eh, Mario. Ecco, ciao, Marra. Ciao, Marra. No, ma avete scammato Mario così. No, ma ora torna. Allora facciamo un po' di switch perché volevo salutarti. Come stai, Dio? Ciao, ragazzi. Bube, bella. Ti vedo stanco. Guarda che occhiaie. Ma sono sexy le occhiaie. Sticato. Ma io l'ho sempre sostenuto, però sì, sono un po' stanchino. Qual è la cosa più sexy che ti piace in una donna, Davide, che però gli altri considerano magari brutta o antiestetica? Vale tipo l'odore fettido dei piedi. Sì. Vale, come? Sì, sì. Quello, quello. Ma... Fettido in che senso? A tanti uomini piace. Dovebbe essere il contrario. Sudato, sudato. Sì, sì. Vissuto. Te, Lucilla, ce l'hai una cosa così? Cioè, tipo, a noi si descreggia dei tuoi partner? No, quello no. Quello no. Però? Quello no. Però tipo, ecco, una bella snuffata sulle palle. Ma ti sa che l'altra volta con Luca si parlava del tema palle. Classicone, eh. No, mi scusami. Cioè, ti ho avuto delle ragazze che vanno lì e fanno... No, ma... Ah, bene. No, ma... Non plantealmente così, però c'è un po' che... Plantealmente. Guarda che teoricamente dovrebbero profumare, insomma, quanto più possibile. E' mai difficile? Madonna, stefallone. E invece non te... Eh, Lucilla, dicci un po'. Allora, a me gli odori forti danno un po' fastidio. Non mi fanno... Allora, a me, so schizzinoso io. Però ad esempio, sì, a parte il fatto che spesso mi piacciono nasi, che non sono considerati belli. Per il resto no. Ecco, però a te mi avevi detto che ti garbano i tossici, no? No, allora, no. Però non devono essere tossici. No, non quelli con le pere dell'Eloina nelle... No, 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 quelli no, quelli no. Quelli no, 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 esteticamente. No, non quelli. Ma cosa vuol dire? Spieghiamo un po' il fascino top, perché quello con lo sciamo l'abbiamo imparato ad amare. Silvicius, tipo. Sì, tipo Silvicius, salti, magri, viso un po' scavato, un po' di occhiaio, sono carine, sono sexy. E devono avere anche gli ambienti un po' femminili. Ok. Silenzio, ditombo. No, no, sto pensando. Vabbè, è il tipo un ragazzo di un shoujo, praticamente. Suri si è guardato come per dire, è il mio identikit, però. No, non sembra molto tossico. Ruciglia, ti piacciono? No, zero, no. Ti piacciono i fanboy? No, lui, tipo, lui, Suri, se ci fosse, diciamo, nel futuro, è quello che tira sassi ai poveri, all'incirca. No, vado a vedere. Passiamo via, merda, andate via. Con la porgesia. Con la pistola, con la pistola. No, la nobiltà. L'aristocrazia. L'aristocrazia. E Lucira, invece, i fanboy ti piacciono? Vabbè, l'Italia sicuramente sì, ma te, più che altro, ti piacciono? Aspetta, fanboy sì, credo che siano eccitanti, sì, mi piacciono, sì, 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 sì. Quindi, tipo, un uomo vestito da maid, ti piacerebbe? Da maids? No, allora. No, da maids, da maids bello, no, no, no. Allora, ho avuto una relazione con, non era proprio un fanboy, però, ad esempio, io su Etsy, quando faccio i set, mi avanzano un sacco di vestiti. Ok. E quindi, a volte, succede che facciamo dei giochi di ruolo, tipo, no, e vengono fuori delle cose interessanti. Ma un fanboy è un uomo che si veste da femmina? Vabbè, quel personaggio che era a Sanremo ieri? Non so chi l'ha visto. Non l'ho visto Sanremo. Per ragazzo. No, non credo. Come va bene. Non credo. Ricchiale bravi, forse. No, ce n'erano. A Deus? Il mio diario, degli errori! Ma intendi Drusilla, Dada? Sì! Ma quella è una drag queen. Ah, una drag queen, ok. È una cosa un po' diversa, Diego. Se voi, iniziamo, cerchiamo un po' confuso, Dada. Quel ragazzo, no, no, quel ragazzo. Perché l'ho visto adesso fuggito. Come quando c'è uno sulla sede a rotelle e fanno, quel ragazzo sulla sede a rotelle. Non ho mai capito questa cosa, anche se c'ha 60 anni. Quel ragazzo sulla sede a rotelle. È stato l'acqua, quello. È vero che lo fanno. È vero, è vero. È vero, in Toscana si dice. Oppure, tipo, noi quando c'è magari una persona di colore, no? Sì, sì, quel ragazzo di colore. Quel ragazzo di colore. Quel ragazzo alto. Sì. Fanboy è un ragazzo, è un uomo che ha tratti molto femminili. Sì, 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 sì. Che non riesci a volte nemmeno a capire, no? Che sembra una ragazza. Un po' androgeno, tipo, no? Tipo? Tipo? Tipo Lucilla, tipo? Un po' come era il cantante del classico. Una persona che si può conoscere noi, che può essere così, Lucilla. Maui. Per far capire anche al nostro pubblico. Che sembra un po' donna. Sì, con questi tratti. Beh, ad esempio l'attore Timothy, com'è che si chiama, aspetta? Ah, tipo, diciamole. Sì, è divinamente molto delicato. Non sembra proprio una donna, però ha divinamente molto delicato. Gripis è un fanboy. Se c'è le palle scopi. No, no, fa troppo. Omo merda lo scopi. Prenderò l'omo merda a sto giro. Ah, sì, invece te Diego, ce l'hai delle perversioni così? Delle robe che... Per i fanboy? No, 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 no. Nelle donne che non sono accettate, ma a te piacciono. Poi sentiamo anche Maria, lo ributtiamo dentro, povero Maria. No, io c'ho il fetish per i culi gigagrossi, però non so se è... Gigagrossi. Gigagrossi. Tecnicismo. Vabbè, ci sta, eh. Anche Nanni. Per il resto è abbastanza schizionoso, purtroppo. No, tu è Twerk. Te Nanni invece? Eh vabbè, te, per me l'hai anche abbastanza nutrito. A me c'è una cosa che fa impazzire tantissimo. Però non so se considerarla una cosa particolare o no. Quando la... E questa è la mascella o la mandibola? Questa è la mascella, questa è il mento. Eh, no, no, vabbè, dico il pezzo sotto. Ok, la mascella... Vabbè, quello che... Vabbè, fatti, esatto. Insomma, la parte sotto della bocca è molto pronunciata. La scucchia. E il labbro sotto fa... No, 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 no. Non... Crizo un mentone. No, no, il mento. Quando la mascella è un pochino sporgente, ok? Quindi non allungata. È un pochino sporgente e si forma il labbro un pochino più grosso sotto. Ma che cazzo di fetish è? E mi piacciono tantissimo... Si garbano gorilla, praticamente. X-Men. Ma tantissimo gli occhi a pesce. Gli occhi a pesce morto. Cazzo vuol dire? Gli occhi a pesce morto. Gli occhi a pesce morto. Quelli che hanno gli occhi tipo a mezzaluna. Sai quelli un po' spessi, tipo moshi? Abbassati. Ok, ok. Ah, tipo un cuore. Allora, prendi una mezzaluna. Un mostro, praticamente. No, prendi una mezzaluna e girala al contrario. So, i pinci che fai su Dark Souls quando gli fai tutti gli storti. No, non asiatici. Siatici sono con gli occhi. Ma tipo l'occhio guercio? No, l'occhio guercio. Tipo broc. Tipo broc. Di broc. A pesce morto. Ah, vi senti un pesce che se lo prendi in mano ne lasca la testa e la oda? Uguale. Degli occhi sulle tembie. Cioè, non... No. Cos'è uno squalo martello. A mezzaluna. Billy Eilish. Un po' calanti. Non so come spiegare. Ah, gli occhi lacrimosi. Gli occhi lacrimosi. La pesce morta. Al caverano. Ma è una pesce morta. Tipo bulldog. Gli occhi di Bill Laden. Dicono Valerio Staffelli in chat. Ecco, Valerione. Oh, signor Nani, signor Nani. Questo valerio di droga. Non l'ha tirato fuori. No, quello è il tizio qualunque. Non c'è tra niente. Eh, ce l'hai un po'. Ce l'hai un po' spiegato. Come sta a fare lì, però un pochino più delicato. Cioè, quindi scoperesti il tizio qualunque. Questo è quello che mi stai dicendo. Ok. Un po' che c'è. Grazie a Mizzetsu. Al Grey, Giasprossa, Giusna. Nani, me lo butta a culo. Grazie a D'Angelo, Paurita, Anonimo, Jamax, Delmas. Ecco, te Martino invece ce l'hai. Ho quasi paura a chiedere. Hai dei fetish così? Mi piacciono le donne che assomigliano a delle muscle car. Se hanno un design che richiama quello delle automobili americane. Che cazzo vuol dire? Che cazzo vuol dire? Come fai? Che trasformer? Ah no, no, no. Che cazzo? No, no, scherzavo. Feli il cazzo le marmite. Non me ne frega cazzo. Ti direi che è un insieme di fattori che fanno per me l'attrazione. Quindi non è un dettaglio che mi dici. All'attrazione tu cerchi nelle donne Posteriori o anteriore Il cazzo devo cercare, la devo trovare Non è che la cerco A me piace lo sporco sotto le unghie Ma non è vero Che poi è tutto pulito Te 5 stelle o Dalisca con la parma Hai capito C'è un difetto però Che secondo me non è tale Ovvero Il diastema Bellissimo Lo spazio tra i denti, bellissimo A me per esempio non piace, mi cringia Vabbè Nanni ma tu non capisci un cazzo Ma poi cosa ho detto Cringia, non è mica un atteggiamento Madonna non te piace Nanni Madonna Ora no magari un tempo si è una bella sorcona Beh ce l'aveva Non è che per quello uno non fa Però non è che mi fa impazzire ecco Mario c'è rimasto malissimo, è rimasto in back per 15 minuti Ma era in live Mario Ma io non lo sapevo cazzo Io l'ho buttato fuori per la gag No esco io Fatelo rientrare Mario Ma no ma non lo sapevo Mario Si ma esca anch'io Mario ma non lo sapevo Era in live Non lo sapevo Era per il Mario Non viene mai L'ho buttato dentro No ma tanto io l'ho passato al volo Ciao ragazzi Ciao 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 Mario Mario non lo sapevo in live Manz 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 Dittatore del piscio Sei un dittatore del piscio 15 minuti miei utenti Ed esci E no È troppo tempo Chiedi scusa Sei un dittatore del piscio Manz Mi chiedo scusa Mario Ma A mia difesa ho due punti Uno non sapevo che eri live Due Sono quattro mesi Che in quella casa Tutti ti danno del drogato pubblicamente E quindi E te è muto E te è muto zitto Io per 15 minuti Mi sorbisco questo Non è giusto Però Però c'è una differenza Tra il Darmi del drogato E io che dico Ma non sono drogato E devi smetterla Tu mi hai tolto la parola Per due manze Mentre Ma non sapevo che No Tra tutte le cose Anche lo strabismo di Venera A me mi piace A me le orecchie aspetto Non mi piacciono Lo strabismo di Venera Mi piace tantissimo Sì anche quello sì Ora le si chiede a Vogelita Tranquilli Imperatori Ora chiediamo a Vogelita Cosa Che perversione No Imperatori Imperatori di Vogelita Gli stai molto simpatica Senti Vogelita Dimmi un po' Qual è Come? Eh? Qual è la tua perversione No? Che ti piace? A me piace L'uomo che puzza Raga Come l'uomo che puzza Giuro Allora aspetta Peccato per Diego Gli è mancato proprio poco Guarda Ti posso scoprire Le ascelle Post Post Sudata Predoccia Non so No Che schifo Mi fai cacare Ma quelle degli altri No Quindi No Lei non giudichiamo Quindi il detto Che l'uomo ha da buzzare Però scusa Questa cosa va un po' In contraposizione Perché te l'altro giorno In live Vai Hai detto che Agnese è bellissima La fatina Agnese è la persona più profumata Che io conosca Sulla faccia della terra Vabbè ma un conto per un ragazzo Un conto per una ragazza Ah Ok Ok Quindi nell'uomo ti garba il puzzo Via insomma L'uomo mi piace più rude La donna mi piace un po' più fine Volita Suri invece Suri l'ha detto Vabbè hanno risposto For Christmas Non so se hai risposto però No io no Allora Vabbè a parte tipo Le cose I nasi grandi Le occhiaie Tutte ste cose Ma c'è una cosa Che è proprio Madonna Le vene Che si vedono di brutto No Ma non è propriamente un difetto Piacciono a molto E a me Quella è un'altra cosa No Le vene Molto pronunciate Quelle mi fanno Tipo Un'altra cosa Il dito questo qui Più lungo degli altri Ma che cazzo Ma che cazzo Guarda che non ce l'hanno tutti Confermo Io non ce l'ho Vabbè ma È greco Come fai Si è greco Siccome lo lì Il piede è greco Ma poi come fai a vedere A un primo appuntamento Tipo Scusa mi fai vedere Se vede un bozzettino Lì al centro Appuntamenti solo Vestate Un bozzettino E invece Mario Ecco Mario Io lo sai che non ti vedo Cioè con quella vestaglia Lì così In quella casa Tutta marcia Puzzolente Non ti vedo Non ti vedo Quella casa Mario Bisogna Fa qualcosa più presto E Non ti vedo Un essere Come un essere Che fa sesso Cos'è che cerchi Di perverso Nelle donne Allora Prima di tutto Ci tendiamo a precisare Che le mie vene Sono molto visibili Dalle mie Dattacca E Poi In secondo luogo Quello che mi piace Sono Allora È un superficiale RP Mi piace quando la situazione Si Si capovolge Mentre Mi piace il gioco di dominanza Alternato Cioè vuoi essere Dominato Mi piace essere dominato E nel momento In cui sono dominato E lei sta dominando Troppo Dominare io Eccetera Cioè Mi piace Che ci cambiamo I ruoli Nella stessa scopata Mi piace Quanto hai il cazzo lungo Mario Mario Sono gigantesco Poi siciliano Così un po' Quanto è lungo Il tuo cazzo Allora Il mio cazzo È lungo tipo 18 centimetri Ma Ho una coppola Più grossa Del tronco Il che favorisce Molto lo strofinamento Delle pareti vaginali Capito Ma è un problema Per abbassarla Vai sul tecnico Esatto Ah ecco una cosa Che invece Odio con tutto il mio cuore Vai Le unghie lunghe Quando C'hanno le unghie da strega Sì No vabbè Le unghie da strega no Però un po' Di unghia lunghina Sul capezzolino Un pochino sì Però Quelle sono cringe Me lo faccerete 5 centimetri Dico ma che cazzo Ci devi fare con ste roba Devi raschiare Il tonaco del muro No Certo Ma poi come fai a vivere Più che altro Cioè Poi ce l'avevate Il pazzo del paese Comunque Quei personaggi Che Io guardavo Tu ricordi Nanni a Livorni Ce n'era Cioè A Mila Anche Matte Se lo ricorderà C'era 40 mila Di personaggi assurdo Ce ne aveva Innocchi Innocchi Pinolo Innocchi era incredibile Cioè la gente Siccome si pensava Portasse merda Lui entrava nei negozi La gente gli dava Tipo due euro E lui se ne andava Cioè gli dava solo due euro Per andarsene Le faceva il giro Prendeva la bicicletta Ma non era matto Era un five head Era un Era un Il mio babbo Il mio babbo Le regalava le banane Grande Cazzo Innovativo Poi ce n'era uno Che sputava addosso Alla gente E anche quello Era parecchio Era parecchio comune Purtroppo era parecchio comune La gente sputava Anche a Colle Servetti Ce n'era uno E sputava Sempre Ammarino questo Merda Te Lucila Grosseto ce n'avevi Immagino No Grosseto Non ricordo Però a Scanzano Di recente Il paesello Dove stavo da piccola Un tipo Per gli europei È salito Sulla Sulla stato di Garibaldi In piazza Si è buttato In piedi E si è rotto Entrambi i piedi Aia Mi piace Il fatto che tu L'abbia detto ridendo Vabbè ma Lucila Che cazzo Mi frega No vabbè Perché è assurdo Perché fai una cosa simile Appunto E ora c'ha le ruote Al posto dei piedi Penso che sia ancora C'ha due overboard Bello Ecco Suri Dato che hai introdotto L'argomento Dell'overboard Dimmi No non proprio Qual è la Novità scientifica Che aspetti di più Neuralink 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 A Manipas Cos'è il Neuralink 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 è un progetto Sempre di Elon Musk Che non viene pubblicizzato Tanto quanto Tesla O SpaceX Ma è molto figo L'anno scorso Ci sono stati un paio Di interventi Davvero interessanti E quello che sta cercando E quello che sta cercando Di fare è mappare La mente umana Tramite degli algoritmi E c'è un video Molto figo Su Youtube In cui prova Anche non prova Riesce Tramite questo chip Che installa Nel cervello Di una scimmia E ci sono dei test In questo momento Dico Cazzo che figata Le declinazioni In negativo Sono illimitate Ovviamente Anche a livello etico Però C'è la proposta È quella La proposta più nobile È quella di Trascendere Per trascimare Oltre i limiti Di tempo Che abbiamo Nell'acquisire O riportare informazioni Perché tu Anche soltanto Ti guardi un video Il video Ci vuole del tempo Per consumarlo Mentre invece Se riesci a fare Il download Diretto nella mente Ma diventa Cazzo Però diventa Come Ghost in the Shell Cioè se Si traccano La media Per adesso Sembra soltanto Una realtà aumentata Direttamente Nella rete Ecco Ecco il coglione Cita Matrix E non ha mai visto Ghost in the Shell Ma veramente Suri Ma salvatò Ma io Non so cosa sia Ghost in the Shell E guardalo no Ghost in the Shell Maledetto Cos'è? E' un film Dura tra l'altro Poissimo Dio guardalo E' uscito prima O dopo Matrix Tra un escort E quell'altro Si spari Ghost in the Shell E queste escort Minchia Ma hanno distrutto Queste escort Eh ma hanno distrutto Anche te Dici al padre l'amico Con 15.000 persone connesse Bene escort E me l'ho chiamata Ogni tanto Ma che succede Ma scusa Ma chi dice nulla Son russo Sono salvato Ma mica Mica lo sto dicendo A te Lo sto dicendo A chi poi Mi viene a scrivere In dire Quelli sono i cosi Vedi sono i bacchettoni Di merda Perché sono abituati A vedere su Minecraft Che spacchi i cubi Un po' spacca anche i culi Spaccherà anche i culi No Vabbè comunque Cosa dicevi Mario ti terrorizza Questa cosa a te A me terrorizza Qual è la Cosa ti fa paura Mario? Ma la conseguenza Che va a tutto questo Cioè il fatto di avere Un chip Vuol dire che E' così importante Che sicuramente Sarà regolamentato Da qualcuno di cui Ha monopolio E se poi questa cosa Come hai detto tu Viene hackerata Eh questo mi spaventa A me più che altro Tutto viene stravolto Nel momento in cui Però è nel nostro cervello Non è A me ha hackerato Il minimo Deve essere hackerato Almeno ti cracki i software E lo sai Se il chip Fosse regolato Tramite una blockchain Quindi fosse molto complicato Quindi hackerarlo Eh lo so Ho capito Però È nel nostro cervello Io spero Adesso è morto Prima le implicazioni Quindi venderebbe Il suo cervello Su un blockchain Come NFT Pensa che cazzo Di figata Però Ovviamente Le implicazioni No Io sto Sono idee Ovviamente Ovviamente Nel lato pratico No Ho imparato questa cosa L'altro giorno Perché te hai Una perversione Per tutto ciò Che è il futuro Il progresso Però non è detto Io sono un fan Del progresso umano A me piace Mi seguo Pensando alle cose fighe Che facciamo tutti i giorni Come umanità Turidu Tu hai ragione Però Te non è necessario Che sia Turidu Turidu Sono Sard Salvatore Se te Puoi essere Però un progresso Ma anche semplicemente Un avanzamento tecnologico Non è la stessa cosa Però Cioè il progresso È quando ti Crei qualcosa di nuovo Per far progredire L'umanità Verso Chiaro Che è anche utile Quindi Sì utile Bene essere E tutto Però questo Io lo vedo più Non lo so Vedremo Cioè tanto Non è inutile C'è sempre Un periodo di aggiustamento Cioè si esagera E poi dice Ok no Stiamo sbagliando E si torna un po' indietro Quindi ci deve essere Sempre un margine di errore Per poi correggere Secondo me Sì sì certo Quello sempre Quello sempre Chissà Staremo a vedere Comunque io sono un po' Dalla parte di Mario Per questa roba qua Perché È pauroso Perché un po' Mi sa troppo Di orsetto Con l'interruttore Dietro la schiena Cattivo buono Quanto possa essere Classico come paragone Io Sono rimasto Altamente colpito Dalla puntata Ricordi pericolosi Di Black Mirror Dove c'è La puntata del chip Fammi vedere Dentro la tua mente Si scopre Quella cosa lì Che ha fatto lei Poi lui Impazzito Che se lo vuole togliere Se lo strappa Con le mani nude Cioè Si però Se ci pensi Stiamo usando internet Cioè ragazzi Sono prolungamenti Se parli nel microfono Loro sanno quello che vuoi Se tu metti la mano Siamo a un punto Dove ormai È troppo tardi Preoccuparsi Voglio dire Magari Pensa Come si chiama Quella serie Su Netflix Cyber qualcosa In cui Riescono a clonare I cervelli A metterli nei Cyberbird Mamma mia Non l'ho visto Non so se si chiama così Sai Va beh In chat Va beh Cioè la clonazione Noi Cioè sappiamo farla Non bene Però sappiamo farla Altered Carbon Si chiama Altered Carbon Esatto Non so Cyber Cazzo Esatto Immagina di poter Abba Fermo Copiare il tuo Cervello E poterlo inserire In un tuo clone Di 22 anni Che rimani sempre A 22 anni Ma il tuo cervello Continua Quello che ha fatto Agnese Come sta andando Bene Come vedi A posto Eh però qua In chat Ragionano bene Dicono Suri Però Saresti sempre Bloccata Quello lì Nel corpo Di 22 anni O no È come il tè D'asporto Cioè quello che arriva Dall'altro capo Del tè D'asporto È sempre Il tè Che ho perso Una serata Di tipo 6 ore In cui con un mio gruppo Di amici Siamo messi a litigare Non litigare A discutere Su questa cosa E allora Secondo me Nel momento in cui Tu ti svegli Nel corpo nuovo E hai tutta la memoria Precedente Sì è vero che sei una persona Diversa Però Hai comunque Tutto il bagaglio Precedente Però no Biologico Probabilmente È una tua copia a carbone Ma tu sei morto Tu sei morto Ma E allora Che cazzo La nave di Teseo Se sei morto Che te ne fai Guarda La nave di Teseo Forse è l'unica soluzione Bravo Dario Cioè una lenta sostituzione Degli organi Attraverso Che so Nanomacchine Che lentamente sostituiscono I neuroni Con Roba Base silicio Perché così funziona Il nostro organismo Cioè ogni sette anni Abbiamo Un rinnovamento cellulare Tale per cui Io non sono più Lo stesso Martin Di sette anni fa Però sono ancora io Sono ancora Che pesata Se invece fai un download De la mente Tu sei morto Tu muori Però in realtà Ma allora Che cavolo te ne fai Cioè per un lascito Per avere qualcosa Che è un ombra Di questo sito Con il quale Quelli che sopravvivranno Dopo di te Potranno Non lo so Però Se tu pensi Che riuscissi a preservare Alcune menti In particolare Non lo so Ci sono delle menti Particolarmente brillanti Di cinque elementi Riesci a preservarli Come Futurama Nel cilindrone Però anche lì c'è un limite Perché menti Particolarmente brillanti Sono comunque Passibili di cambiamento Possono cambiare idea Possono evolversi Mentre invece Se tu di questa Di queste menti Ti fai soltanto Una fotografia Che non è capace Di evolversi Per continuare Ad avere quella mente Quella mente Non sarà mai capace Di riportarti Se non quello Che faceva in vita Un po' come le ombre Nell'inferno dantesco Mentre invece Se quella mente Continua ad essere Capace Come è una mente Autentica Di rinnovarsi Dopo qualche decennio Quella mente brillante Sarà totalmente cambiata Potrà aver cambiato idee Potrà aver cambiato Ebbè È una cosa positiva Boh Non lo so Sai Perché Allora Io Se non faccio arresta Il sistema sul computer L'OBS Mi si bugga Cioè Figurati gestire Una roba del genere No BS GoXLR Mi si bugga Figurati gestire Una roba del genere Che è Falta scientifica Cioè Ci saranno dei bug Delle robe Che vanno storte Degli inconvenienti Dei problemi Questo è quello Che fa paura Se funzionasse È un conto Ma anche lì Ci sarebbero Delle complicazioni Etiche Delle complicazioni Sì Possiamo dire Etiche Niente male Ma Poi c'è anche Il problema Tecnologico Questa cosa Può andare in porto Se ci va Come ci andrà in porto Cioè È inquietante Un po' Pensare Che magari C'è qualcosa Che non va nel processo E succede un casino Che la metà basterebbe No? Non lo so Tipo Mi sei baggato Il nonno Si è baggato Si bagga il nonno E invece Ad essere partigiano Per Hitler Inizia a sgozzare Tutti in casa Cioè È periodoso Stiamo facendo congetture Però Nel senso Ad esempio Martin prima diceva Di fare la fotocopia Che poi rimane Fermo la fotocopia Io Me lo immaginavo più Come un Hai un backup Rinasci Ma non parti Da zero Parti Dal punto In cui sei morto Sì ho capito Ho capito Ho capito Ho capito Ma se mi craccano Se mi craccano Mi fanno prendere una pistola E per esempio Sparano faccia a Mario Sfracellandola Cioè È tremendo Che Mario Vabbè Quindi io ti do la buonanotte Ciao Ciao Matte Ciao Matte Sì lo so che non sei più tu che rinasci Ma il cervello non partirebbe più da zero Ripartirebbe dal punto di fine dell'altra vita Capito Quindi il cervello potrebbe continuare Buonasera Ciao Potreste avere un cervello Che arriva ad avere 300 anni di Non lo so Di apprendimento E quindi riesce a risolvere alcuni problemi Che in una vita normale Un'altra persona riuscirebbe Sono idee Sono più per Surri Nel senso che Forse Il problema Ancora prima Della poi effettiva Cioè Di capire come funziona O comunque Del minimo progresso tecnologico Su me è un po' assurdo Nel senso Ora è un paragone magari che C'entra poco Perché si è nata in mente Eccetera Però magari Non so Dieci anni fa Quando c'hai le prime carte Che trattano il telefono Per assurdo Cioè Magari ti hackeravano il telefono E non avevi zero soldi In conto in banca Butti via la vita Fondamentalmente Perché magari Poi vai e vive sotto ponti Però devi Devi essere comunque pronto Ad accettare E a scommettere Magari poi Anche a decidere Non ho fatto Lo sto cazzo di os Sì però Nani Si va sempre Sul solito discorso Cioè Chi decide È sempre quello Cioè Non è che te A un certo punto Certe cose Se diventano quasi Un'abitudine Guarda Facebook A tempi Te lo devi fare Quasi per forza Vabbè capito Però un conto è Facebook Un conto è il chip nel cervello Avrai la libertà di decidere Non può diventare Obbligatorio dai No Obbligatorio no Però se diventano Facebook Ma non riescono E se non riescono a far Facile Fanno il coso nel cervello Diventa l'obsolescenza programmata Per cui tu sei fuori dal mondo Se non ti fai il chip Eh capito Quella roba lì Quella roba lì mi spaventa un po' Ma poi che cazzo è che vuole campare tutti Secondo me ci sarebbero più No Vax che No Ship Ti dico la verità Sì sì Sono Pondarts Io anche voi vorreste campare all'infinito Volete morire No io no No io devo morire Io voglio morire Ma io a 71 anni spero All'infinito 71 anni 70 70 vattro è il massimo Beh un incubo cazzo Vedi i tuoi cari morire La donna che ami morire No no Tutti quanti c'hanno sta cosa Tutti immortali E tutti immortali Voi vedi l'imps poi Che come si diverte Come fai Fadisce la Vabbè cambiano un po' Tuzza hanno fatto sto chip Riescono pure a risolvere Hanno fatto sordi ora Questi tre anni Diventa veramente un casino Ragazzi Vabbè parliamo di nuovo di Topa Vai No 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 Ma a parte che non ce l'hai mai parlato Di Topa No era bello Delle tecnologie Era bello Nel Suria aveva detto Il chip Però magari altre tecnologie Il chip applicato Io vorrei Vorrei una presa Cioè che è una cosa Molto più abbordabile Molto più vicino a noi Vorrei un'implementazione Ancora maggiore Della realtà virtuale Quello mi piacerebbe Avrei detto la stessa cosa Con il chip Implementazione Cioè Che si investisse A livello Di massa Cioè che la realtà virtuale Diventasse una roba Quotidiana Quasi Non è ancora Perché diciamo Non ce la fa molto bene Ancora Ecco Non spoiler Io tra pochi Tra un paio di settimane Credo Andrò A realizzare un video Con un'azienda Tra l'altro italiana Che si occupa Di metaverso E loro Non fanno realtà Virtuale Ma realtà aumentata Che secondo me Alla delongio presente Quella del pinguino Non penso C'è la delongio Che tanto pratico Secondo me Potrebbe essere Forse più Più accessibile Nel breve termine Mi immagino Una cosa Tipo Non lo so Google Glass Però fatti meglio In cui tu Interagisci col tuo Con il tuo mondo Però hai la possibilità Di interagire Anche con un mondo Alternativo Un metaverso In questo caso Però sempre Facendo parte Insomma Della tua fisicità E loro Mi Super spoiler Insomma Se posso dirlo Mi faranno provare Una tuta Traccata Tipo quella Che usano ad Hollywood Per Entrare meglio Per fare il mock up Tipo quello che usano Esatto Per fare Lo smaug Di turno Ok Fico Per entrare E non lo so ancora Ancora da definire Non so neanche Quante di queste cose Potevo dire Però Sì Domani mi sveglio Una renuncia Tanto rimane Tra noi Sì Quindi Gli investimenti Ci sono Lascio stare meta Che ieri Ha avuto Un bel crollo Però secondo me Potrebbe risalire Gli investimenti Ci sono Secondo me Ci stanno Spingendo tutti A cazzo duro Io invece Vorrei diventare Un feto Dentro Cioè Vorrei regredire A forma di feto Dentro Un'armatura bionica Cioè Mi piacerebbe Che tipo Inventassero Le tracce Le gambe bioniche Io non dovessi fare Più niente Proprio Non dovessi muovere Un muscolo E quindi Regredire a feto Con Rimanendo comunque Un essere senziente Ma comandando Un corpo Che schifo Tu l'avevi letto Il romanzo Di Ligabue Sì certo Ce l'ho firmato Ah ok Quindi Cioè Che lui Praticamente Aveva In un futuro Tu nascevi Anzenissimo E morivi Bambino Cioè Perché C'è già Vibato Scusa Sì E così era Io Ma ci puoi avere Un robot bionico Un dialogo Bellissimo Perché devi esserlo Diego dicevi No Devo andare a vedere Corsi Devo andare a prendere Federica Io ho due tecnologie Che sono Interessanti Esatto Tipo baby head Esatto Una È una doccia Dove tu entri vestito Ti lavi E ti pulisci i vestiti E ti asciuga tutto E sei tutto vestito Preciso Ficchissimo Comodo E anche utile No aspetta Non ho credito Tu entri vestito Ti lavi corpo E ti asciuga Ti pulisci tu E i vestiti E tutto asciutto Ok E poi un frigorifero Dove tu metti la roba dentro Lui ti dice tutte le cose Che le ricette Che puoi fare Con la roba Che hai messo dentro Quelli ci sono già Quelli già c'è Credo Come già c'è Ma da comprare Bella regà Sì ma anche la cosa Della doccia Non so come fate voi Ciao Diego Ciao Ciao Per te è già così No no Vogelite Nuove tecnologie Che ti attirano Il branding No dicevo appunto Il VR Come te è uguale Concordo Però per il sesso Gay Ener Assolutamente Quella è la prima cosa Poi vabbè Vorrei fare altre cose Ma In prima No no Perché Martini Vogelite Il garba trombacco Personaggi inesistenti Quindi con quella roba lì Sei a posto Perché ti trombi Esatto Ener è quello di One Piece È sbagliato Eren Eren Sì 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 No non mi piace Però vabbè Non mi importa E poi tipo anche come Ma sì magari come In The Sims Che tipo fanno una gira volta Su se stessi E si cambiano Una roba del genere Vabbè Ah ok Tipo Superman Nella labina Arturo Brachetti Tizio invece Noi Tecnologie A me piacerebbe Avere tipo La visione Dei Google Glass Però integrata negli occhi Cioè tipo Un ad Che ti dice Di tutto quello che guardi Tutte le cose In realtà aumentata Tipo lo scout Eh però Lì si torna un po' Il discorso Di Surry Secondo me Molto simile Tanto a me Tanto a me Può solo migliorare Non è che Anche se mi sbaglio Qualcosa Secondo voi È fattibile Tipo delle lente A contatto Nanotecnologiche Che ti permettano Di vivere La realtà aumentata Ci sono già C'è qualcosa del genere Sì Non lo sapevo Le nanomens Che l'hanno fatte in Cina Però le stanno sperimentando Che inquietante Mens o man No no Le nanomens Si chiama Sì sì Della buitola Sì sì Lucilla Se tu avessi Settemila euro Sì Come li spenderesti? Sono tati Settimila euro Di preciso? Sì Eh Oddio Non lo so Forse Forse Mi comprerei Qualche opera D'arte Minore Di qualche artista Famoso Ma forse Non basterebbero Credo Cosa faresti Nani con Settemila euro Guarda Settemila euro Sul No ma Che succede? Che succede? Non so Probabilmente Li spenderei In Ezzelo Ezzelo Non lo so Sono due O li butto Tutti alle slot Così Se ne faccio il doppio Oppure Oppure Che sei il gabrone No no Così Cioè 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 Capito Non Non Sarebbero Cioè Sarebbe come non averli Fondamentalmente Non ti Gia Non ti Farei il doppio Oppure Ci coprerai i box Delle carte di Warcraft Che ho recuperato Poche in giro Poco in giro Sbusti L'ominid Di gomma Della Duggetto Meno Pi cazzo A me E madonna Siamo molto calmi Eccoci E Martín Cosa faresti Con Settemila euro Con Settemila euro Poi che cifra Accidenti A me Vabbè Allora Boh Mi ci compro Una Ford Capri Del 1975 Bello Molto specifico Però Se magari si balanza Anche qualcosa Gli faccio la conversione A metano Che costa Tantissimo Costa un po' Esatto No la Ford Capri Non costa tantissimo No la conversione A metano Ah ok Allora niente Che invece Mario Un Harley Davidson Chopper Tipo un chopper Però usato C'avrei la voglia Di prenderlo usato E di utilizzare I soldi Che risparmio Per modificarla Un pochino Come piace a me Io ho entrambi I genitori Che sono stati Motociclisti Nella vita Quindi Ho vissuto Una Rock and roll Baby Cri Settemila euro In Sardegna Cosa ci si fa Ma infatti Io faccio Tutto online Qua non c'è un cazzo Da Quindi È un po' Un problema Io farei Tante piccole cose Dilla verità Perché non c'è Una cosa Grande Che vorrei Prendere Quindi Viaggio Una metà Che mi piace Quindi Messico Islanda Giappone Ancora no Perché chiuso Mi farei qualche Tatuaggio Sì Probabilmente Ma che cazzo Cosa fai Snoop Dogg Stavo cercando di fare Il braccio di Dario Scusami Non Non Ci è piaciuto Il tentativo Boh Il resto In figure Forse Non lo so In figure No In figure In figure In figure Ok Scusami Ma Figa C'è una Gratuita Quando vuoi Ecco invece ragazzi A parte i 7000 euro No Che questa è una cifra Molto importante Eccetera Però E se Voi aveste Tantissimi Aspè io non l'ho detto Perché te con 7000 euro Ti ci scaccoli Cosa ci vuoi investire No Ma a parte che non è vero 7000 euro Andrei Sui veri siti Di crowdfunding Investirei 1000 euro a testa In alcune startup Innovative Perché Su 7 C'è una buona possibilità Che almeno una buona La becchi E puoi fare un ritorno Anche magari un 4x Un 5x In tre anni Che non è male Allora Facciamo Io torno indietro I miei 7000 euro Li do a Surry No io non ho 14 Onesto Tizio invece Un 7000 Capo Allora Io Probabilmente Mi faccio una fornitura Di fumetti Bella tosta Cioè Di robe che mi mancano Sì sì Robina Proprio così Magari qualche gradato Anche io Visto che mi hai Fatto conoscere il mondo Qualcosina Giusto per gradire Molto Molto Un bel rifugio Ecco Vogelita Cuscini Col cazzo No No Se avevi cuscini Col cazzo Di fuori Io sì No no Quelli no Ce li ho già Ma Forse Un paio di action figure Oppure Li metto da parte Li metto da parte E in un futuro Mi ririduco il seno Così Ma che cazzo Dalle a me Li prendo io Perché ti sei già ridotta il seno una volta Sì a 18 anni Ah non lo sapevo Ah non lo sapevo Cazzo Un po' di più Di 7000 euro Quindi Metto la parte Come mai ridotto il seno Ti dava fastidio Ti dava fastidio la schiena No no per niente No Per un fatto estetico Perché poi a me sono esplosito Quando ero molto giovane Quindi Inevitabilmente Il focus finiva lì Insomma E Non mi piacevano Quindi vorrei che non avere proprio niente Idealmente Sì Una puntina Una puntina Lascia Ma tipo una seconda Capito Anche una terza Per il meme Lascia No Per il meme Non ti convince ancora La terza Qualcosina Eh vabbè Ci sta Ci sta Ci sta Non lo so E Non volevo Renderla serio Scusate È piuttosto particolare Ti voglio farmi un paio di I cazzi sì Devi fare ciò che ti fa sentire bene Infatti Infatti Sono d'accordo con Martina Sono d'accordo con Martina Quanto costa farle ridiminuire? Eh io L'ho 14.000 Quando avevo 18 anni Porco due 14.000 Qualcuno mi pesca i suoi 7.000 Cioè costa il doppio Di farle Perché Quando le fai Metti solo Quando le togli Togli e poi rimetti Eh penso che sia un intervento più complesso Sono due operazioni anziché una E quindi Costa il doppio Però raga Oh Comunque Scusa un attimo Dario Poi vogliamo parlare di TET Subito Però Volevo rispondere in chat Che hanno detto Ah scusa Però se investi Se sono una delle start up va bene Dopo tre anni Hai fatto magari 4-5k E basta Però quello che ho detto In sederario È che tu Nel momento in cui La partecipazione dell'azienda Continua a prendere utili Se l'azienda va bene No ma poi anche legacy È anche soddisfazione No? Averci beccato Sì La soddisfazione personale Secondo me c'è sempre In queste cose Ok Però la cosa figa È i dividendi E quello che continuano a pagare Se tu rimani proprietà dell'azienda I dividendi arrivano A meno che non sia Un'azienda fallimentare L'avete fatto incazzare L'avete fatto incazzare Torniamo a parlare di TET Scusate No 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 Anche se la riduzione Non è proprio il mio fan Ok No non è proprio il mio fan Però a parte questo Qual è il discorso È che Secondo me è giusto Se uno non si vede Con le tette piccole È giusto che se ne ingrandisca Se uno non si vede Con le tette grandi È giusto che le riduca Cioè non capisco Dove sia la differenza Poi chiaramente Nella mentalità dell'uomo Le tette più grosse Danno più beneficio Ah non sempre Però Non sempre Non sempre Non sempre Però per vocalita È così Quindi Dobbiamo star bene Con se stessi Infatti Per esempio Nanni Che ora si sta facendo La riduzione al cazzo Giustamente Perché lui vuole Dell'altro Vuole spariscere Dell'altro Dell'altro Cioè faccio In voi C'ho la topa Questo Questo È un po' Un po' troppo È un po' troppino Ora si caccia Il ruome È uscito un po' Con questo Pisani Io comunque Non ho ancora letto La mia poesia Posso leggere Per andare via Prego Posso proporre Un giusto Prego Eh vabbè Il catarro L'ho scritto prima Rapiscimi Tappami la bocca Per non urlare me stesso Per non Urlare me stesso Chiudimi dentro La tua stanza E non liberarmi mai Per gata rossa Come il mio cuore Grazie Scusa Ma perché Ecco Full screen A caso Non è voluto Tra l'altro È andata su di te Ma domani Ma che vuol di brigata rossa Ci mette sempre I partigiani Veste Non so Che invece Mario l'hai scritta La rossa Io ho scritto Però è un pochino Più lunga È un pochino Più impegnata Ho paura che mi chiediate Di stare No 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 Assolutamente Mario Prego prego Ci mancherebbe altro Io non ho capito ancora Perché con la vestaglia Ecco bravo Io non ho capito Il caschio dietro Esatto Io provo un teschio in mano Ah Ha cambiato vestaglia Ma quanto è Visto che la vestaglia Prende anche il teschio Ti prego Esatto Eeeh L'ammaretto di Sanondo Sì sì Con la tazza Ed ecco di qua Vogliamo il teschio Sì lo sappiamo Vai Chi è? Dico la mia poesia Adesso Fire Survivor Comunque nel caso Qualcuno se lo chiedesse Dico la mia poesia Ed eccomi qua Al pub dell'amico Ero pronto a pagliacciare A fingermi divo Ed eccoli qua I streamer piacenti È il momento di fare festa Ma poco prima di entrare Eccola La causa delle mie gesta Ciao Cristina Ti amo Più del Pokémon tangela Ignora il fatto che Nella poesia prima Ti ho chiamato Angela Per me il confronto Con Nanni Twitch È un pretesto Non sto più nella pelle Io che critico poesie E le dedico a te E i miei utenti Che le dedicano Alle sue sorelle Si scherza Si scherza Nanni È uno scherzo Una gag Se volendo Se qualcuno distraica Io pretendo Le cramo Era un modo di dire Ah per dire Che sei Dalla sua parte In un certo senso Bravo Mario Bravissimo Vabbè le rime Mi è piaciuta Ragazzi Abbiamo una new entry Tra l'altro Qua nel pub dell'amico Che non è mai venuto E che sinceramente Sono anche molto orgoglioso Di ospitare Ovvero Ciccio Merino Oddio Benvenuti Benvenuti Nella mia umile dimora Come va ragazzi Tutto bene Ciao ciccio Come stai Tutto bene Tutto bene Stato tutti quanti Intanto Ciao Mi baciano a tutti quanti Ciao ciccio Va tutto molto bene Meno male Meno male Meno male Ciao Mario Ciao ciao bro Mi sento più Al sicuro Perché magari In mezzo alle persone Che non conosco molto bene Dico aiuto Senti ciccio Fai così Nel momento in cui Ti senti un pochino perso Puoi farmi una domanda O qualcosa del genere Così ci spaventiamo Posso dirti una cosa Allora Le cazzate che ti ha detto Mario Sono cose dette da Mario Cioè delle cose inutili E soprattutto false Ma che cazzo Ti ho detto io Fammi parlare Adesso sto parlando con ciccio Però eh Ok Quindi Non è vero Cioè non ti devi sentire spaisato Siamo tanti Magari non conosci quasi nessuno Ma tranquillo Puoi infilarti dentro gli argomenti È Mario Che è sociopatico Ma lui ce la fa Purtroppo Ragazzi Viverci È difficile pure Perché? Eh diciamo che Abbiamo avuto un po' di Precedenti Perché anche perché Mario Sappiamo bene che È un consumatore Di No No ciccio È un consumatore Di droga Non qua però Non sono un consumatore Di droga Sto scherzando Non parlando che è vero Sto scherzando Ecco Io purtroppo Vivere con una persona Che si droga Non è molto bello Anche perché mi sveglio Sento quella puzza di Ma come ti svegli A che ora? No Lui la mattina Lui la mattina Già da La mattina che cosa? La mattina che cosa? MD e cereali per Mario Sì Vabbè Non è vero Non è vero Povero Mario Vessato Da questo Però è vero Quindi Ma povero Mario Perché purtroppo C'è caduto dentro Nei cereali? Pure Sì ma vabbè Dentro anche perché Metaphoricamente parlando Io ma Io ciccio Mi sono sempre chiesto una cosa No? Sì Come Cioè Non sto scherzando Come cazzo fate a vivere lì dentro Ma non per la casa Ma perché Io la vedo Quella casa lì Come una gara Cioè una gara A chi la spara più grossa Cioè il fatto che Daniele si svegli E voi Lo prendete per il culo Per il fatto che sia Probabilmente Omosessuale No noi lo prendiamo in giro Peraltro eh Se è omosessuale Il nostro amico Daniele Non c'è nessun problema No ma non lo prendete in giro Perché lui non accetta La sua sessualità Quello era il senso della frase Ah ok certo Ah scusa Poi Questa cosa di studiare Sempre nuovi termini Le encuremo Roids Le pompe in plac Ah le pompe in plac Poi c'è Mario Il drogato Quell'altro che caga Nei cassetti Ma come cazzo fate Non lo so io Guarda in realtà Forse quello più normale Qua dentro sono io È vero Infatti capito Se ti metti nei miei panni Io mi sveglio E vedo questo Uno che si incazza Perché non accetta La sua propria sessualità Uno che si droga Uno che caga Nella pizza degli altri Capisci bene Capisci bene Che è la mia vita Oddio Sì Chi è Chi è Finiscila Di fare cosa Finiscila Di fare cosa Le cose che stai Mi stai minacciando Che drogato Porco Mettiti vicini Aspetta Mario Minchia Ragazzi scusate Mettetela di offendermi Ma come sta parlando ora poi Pure Marco Mi ha appena offeso Marco Cosa ha detto Ma non ho manco sentito Ho sentito di merda Ero io sicuramente Ma poi fallo venire Ma perché non vuole venire Ma perché deve fare sempre Legge quel coglione Marco È impegnato a cagare Sulle pizze Dio Sì 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 Tra l'altro Quella pizza cagata È ancora qui in casa Come Non l'avete ancora buttata via La pizza con la merda Di Marco Io penso Io penso che sia qui in casa Ma veramente Dai ragazzi Ma addio Cristo No 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 Non so dove sia Ma secondo me è qui in casa No scusate Non ho capito Allora Per fare un simpatico scherzo a Daniele Marco ha ordinato delle pizze Poi non si sa come In una decina di secondi Ha cagato sulla pizza E Daniele L'ha spalmata Mischiandola con gli ingredienti E poi l'ha data a Daniele Daniele l'ha aperta E ce l'ha della merda Sopra la pizza Te ciccio ce l'hai La stessa perversione per la merda No mi sembra Comunque Io per me Io per niente No 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 Mio fratello ha questa strada Ma comunque Fin da ragazzo Diciamo che lui è sempre Vado questo Da qua A volte mi spuntava Quando abitavamo a Messina Mi spuntava Ciccio che ne pensi Mi spuntava uno stronzo in mano E giustamente io Da fratello Da fratello dicevo Marco Quindi diciamo che Ho dovuto anche capire E comprendere La persona che è mio fratello E questa è la cosa bella che ci lega Vero Mario? Sì 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 Merrino sono completamente diversi Le loro esigenze sono opposte Ed è meraviglioso questo Sembrano molto Non so se avete mai visto Full Metal Alchemist Sì certo Ci ho capito Ci c'è Bonoheim E Marco Abbiamo capito? Io mi ricordo tra l'altro Il video di The Sims Dove lui cacava nel video Cioè lui questa cosa Ce l'ha sempre Che risate E devo sapere che la gente Dice Pensa Che Quello stronzo Che ha buttato È fatto tutto Quando in realtà Non era punto Era uno stronzo Anche perché Alla fine del video Ci siamo noi Che ritiamo come pazzi Ora tra l'altro Marco Ce l'ha con me Perché Crede che io farò Un episodio di Poltergeist Con Daniele Eh sembra che tu Ci stia provando Un pochino con Daniele Ovviamente Professionalmente parlando No io No no Io lo scoperei Daniele Ah ok Ma a parte scoparlo Quest'episodio Di Poltergeist Poltergeist Mentre Ma in realtà È stato un fraintendimento Non succederà mai Tantomeno sul canale Di Daniele Che io farò una comparsata Fra un paio di sabati Per fare Poltergeist Assolutamente Guarda Guarda Eh te che rapporto hai Con i tuoi escrementi Lucilla Grazie a Corvo98 Un baus per 100 pip Qui escrementi Io che rapporto Ecco te avevi detto Ad un altro pub Che c'è un dottore Che ti compre con l'anno C'è qualcuno Che ti si è offerto Per comprarti la merda? A me fanno tante richieste Strane Quindi sì 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 Una volta è successo Però la cosa più strana È stata un tipo Come? Come gliel'hai spedita? Cioè sono curioso No non gliel'ho mandato Non gliel'ho mandato Non gliel'ho mandato Dai lo sappiamo No ma che mandi Scammato? No però una volta Un tipo mi ha scritto Su Instagram Chiedendomi di andare A Milano Con le Baffalo Che sono delle scarpe Non so se le avete presenti Tipo delle platform Molto E di prenderla a calci Nelle palle Mentre l'offendevo Ero io In cambio di 500 euro No Non eri Tu ridi Come fai a godere Se ti prendono a calci I coglioni Io me lo sono sempre chiesto Poi con le Baffalo Ha specificato Che dovevano essere Le Baffalo Guarda te sto pazzo Dai non facciamo Che il shaming Mario No 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 Non è che facciamo Che il shaming Allora È pazzia Farsi calpestare i coglioni No No Ma come no È masochismo Farsi calpestare È un conto No ragazzi Non era Martina Non era Martina Martina sta a Bologna Non sta a Milano Quindi non ha senso Poi mi sono immaginato Io che vado a Milano E poi dico Ciao piacere E poi lo prendo a calci Nelle palle È un po' strano Come cosa Cominciamo Pum 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 Ecco sì Sarebbe stata più preparata Ma ascolta E altre richieste strane? Beh allora Vabbè senza fare nomi Però c'è una persona Cioè sono qui Puoi dirlo Vabbè ora Magari Ti ridi oggi full Veramente Ti ridi oggi È una persona che In cambio di offese Scritte solo su Instagram Mi manda 100 euro Su Paypal Posto le chat La gente non ci vede Che sono Ma minchia Ma dammela a me il contatto Mi ha scritto Dea puoi offendermi E ho detto Sei un coglione E lui mi ha detto Dammi la tua mail di Paypal Io ho dato Ma non l'aspettavo Da Simone Santoro Questa roba qua Grazie a Maca De Flag È io che prego Per 5 euro Ma vendete cose Molto interessante Cose molto interessanti Sì sì Ma scusa ma Perché hai detto Non voglio fare nomi Perché è una persona conosciuta Oddio Sì No Lasciamo 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 No Non penso che Quella conosciate Questa persona Non è uno streamer Non è uno youtuber No 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 Ah ok ok Sì sì Vabbè sarà No non posso Questo mi denuncia davvero E Ho di un'altra cosa Le richieste strane Guarda io Devo raccontare Ora ma L'altra non è manco Di tanto strana È strana perché Io sono diverso Nel senso Nell'atto sessuale Questa ragazza Mi chiedeva Molto spesso Di prenderla a pugna E schiaffeggiarla Ora Io non sono il tipo Che ha letto Da schiaffi Io sono molto romantico Io sono un romanticone Però Quando tu chiedi La prima La seconda La terza La quarta La ventesima Trentesima Quaranta Cinquanta Cento 200 Trecento E seima volta Di prenderti a pugni Tu vuoi veramente Essere presa a pugni Ora io sono Contro la violenza In qualsiasi modo Ovviamente Tranquillo Ovviamente E questa qua Mentre Nella cusola Dice Dai schiaffeggiami Ti stai zitta Perché devi rendere Tutto Così Brutto E quasi E cringe No ciccio No ciccio Però no Dai Sono gusti Sono gusti Aspetta Allora ragazzi Intanto che c'è Consensuale 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 Consenso Va bene Intanto che c'è Consenso Si può far tutto Robin Govans No ma Non è il fatto che Cioè Io Non volevo farlo Semplicemente Il fatto che Tu Ci sta Esatto Però non c'è consenso Tu mi debba obbligare Esatto Però sei a disagio Cioè Sì E sapete cosa ha fatto Ha tolto la mia collana Una collana a cui io tengo tanto E se l'ha messa lei E se l'è stretta E se l'ha messa Il più stretta possibile Fa Tirami E poi me la paghi Tu la collana Se si rompe Se me la compri Tu te lo faccio Ma non Non vuole sempre un cazzo Ovviamente Una collana Di 5 euro Ti ha Di 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 Terranova Però Però Comunque Davanti a questo E qua Io non sapevo Come era Giusevo Oh cazzo Come cosa devo fare E quindi Io Uno schiaffo Io l'ho dovuto Per forza Perché non stava Voleva solo quello Madonna Ciccio Cazzo Che Non volevo essere Nei tuoi panni Sì 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 È stato fatto Sì sì Questa sarà la scena Ma lo schiaffo dove? In faccia In faccia No Ciccio No E allora Hai capito Che palle Posso dire Che palle Quando succedono queste cose E' vero brutto E' capito E' vero su Vero E' proprio Suri con i contratti No 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 Io il contatto Non l'ho firmato E' trovo paura Scusa Suri Scusa Sarebbe finito così No no tranquillo Però il contatto Sarebbe finito così Eh No ma no Ma una situazione Veramente brutta Meschina Meschina Va bene Ciccio Grazie Però lo sai che Non ti ci vedevo così Ciccio Io ti dicevo Invece più lanciare Invece queste cose Ti Ti dà noia Cioè picchiare una donna È quello che ti dà fastidio Sì ma più che altro Secondo me Nell'atto sessuale Ok ci sta che a volte Sì qualche cosa Così va bene Sì c'è anche sul culo Un pochetto Esatto sul culo va bene Ma se tu insisti 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 Strangomi E prendiamo schiaffi Ora ti do un calcio in culo Adesso Ho dovuto dare uno schiaffo Ho dovuto Ho dovuto Sono stato È dovuto Costri Certo Diciamo che Sì sì Quella Sì sì Mi ha Mi ha violentato forse Boh Così non va bene Bene No se ti ha obbligato A fare qualcosa Che non volevi fare È una cosa È brutto Non voglio darti Un schiaffo Non mi va Dai dai Certo E poi mi fa Mi dice una cosa Non hai le palle L'asilo L'asilo Allora ti cai addosso Non hai le palle Ma Ma l'ha detto De provocarti Dai Sì Però capisci No 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 Così non mi piace Ciccio Così non mi piace È capito È come se io dico Ok voglio fare Anale Adesso No 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 Poi lo fa Cioè non va bene No 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 Allora così Hai ragione Come è iniziato il racconto Sembrava Più comica La cosa Più tranquillo Così no Così fa Perché è un obbligo Nei tuoi confronti È una molestia Poi stiamo dicendo È una molestia È una molestia È una molestia del cazzo Una volta Mi sono svegliato Che una dima Teneva il mio cazzo in mano No No Come? Come? Ma non te l'hai riaccorto Io ho il sonno Molto pesante E dormivo A quei tempi Perché stavamo lavorando In stagione In una brandina In salotto E questa ragazza Era molto innamorata Di me E mi sono svegliato Visto che ho il sonno pesante Che avevo già Lei pensava Che io avrei gradito No? Minchia di svegli Che ho il tuo cazzo in mano A me non piaceva per niente Mi sono terrorizzato Mi sono traumatizzato Il giorno dopo E' una molestia E' una molestia E' una molestia Questa è una molestia Forza troia Questa è bella e buona Che paura Sì Sono pure ammalato Dai ragazzi Non fate gli ironici in chat Guardate che Un uomo può essere non consenziente Non è che siamo bestie Se ci fanno Se ci fa cagare una persona O non ci piace una persona Non vogliamo semplicemente Ma può anche non essere Il momento giusto E' semplice Non mi va Non c'è Ma che È molestia Tutto si riduce a quello Lo vuoi fare No Potete pensare Con questa cosa Capovolgendo i soggetti C'è al posto di Mario C'era Maria Cioè sarebbe stata Gli stavano toccando la figa Ma che Eh ragazzi Oh Perché di solito Si sente sempre femminile E non si pensa Che si possa succedere Non scherziamo Non scherziamo E anzi Di solito viene insultato Se un ragazzo Non fa qualcosa Sì sì Esatto Tipo Ma come Avevi l'occasione Esatto Te la sei persa Capito Io mi sono dovuto Beccare un senza palle Oh È vero Ciccio è vero Cazzia Capito Cioè non solo rispetto di te Mi dici pure senza palle Ma io C'è tanta gente Senza le palle E tu glielo devi sbattire Faccia questa E non toglie nulla La loro Vabbè Martino Ma ora che Ma cazzo scendo Ma infatti La schiaffeggia Poi con le palle No Certo Ma senti Quell'altra Pur parlet Tutti coloro Che non hanno le palle Grazie Antonio Questo non li rende meno uomini Questo è Poi senza palle Andava nell'uno All'asilo Dai ovvio Ma capito Ma poi Ma poi Però ora mi hai detto Che sei felice Però adesso sei felice Ora sono felice Sono a posto Sono molto contento Anche perché Ma è sempre Non dico niente Ma è sempre quella Sì 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 Allora sono un po' orgoglioso Sai perché Allora io devo dire Io devo Hai fatto a conoscere tu No 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 Io devo dire Che La Toscana Io la amo Comunque Eh certo Ora ci scopi No vabbè Questo No no Allora questo Le stai dicendo tu Io Però nel senso I toscani Sia maschi e femmine Le amo tutti Cioè amo tutti quanti Anche me gli assassini Amiamo tutti Compagni di Merelli No niente Sì 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 Compagni di Merelli Vogelita tutto a posto? Tutto a posto Ciao Elena Ti vedo silenzioso Ciao Tutto bene? In effetti vedo Elena Un po' più tipo silenzioso Un po' Sta ascoltando comunque Guarda le cards Guarda le cards Di 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 Chris Di Chris Bella Che stai guarda Che canse hai? Non ho visto No non immaginavo Agnese se te le strappavo Co denti Scusami Posso organizzare Cioè nel senso Quando ti pare Quando vuoi E Dicevo Eh però sono contento Ciccio Perché magari ti posso vedere Anche un po' di più Questo mi fa ovviamente Ma infatti Io Allora io Sono molto Io faccio schifo Non so mai dove sta la gente E quando ho detto Sai Dario Sta lato io No vabbè Io lo dico subito Eh io ho pensato Sto a un quarto d'ora Che mi fa Che c'è Io non lo sapevo Ma poi ti faccio entrare Nella pisa dei vizi Nella pisa più oscura Verdosa Dove ti pisciano addosso Nei tombini Bello Io voglio mangiare Al ristorante di tuo padre Dario Posso venire qualche volta Tra l'altro servono Dell'ottima eroina Come sai No Mario non sai L'eroina Ah sì 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 Ah ecco ecco Non era riferito a te Mi sono svegliato Mi sono svegliato Me l'ha detto oggi Me l'ha detto oggi mio fratello Sì sì Questo è tutto Perché è geloso di Daniele Ti rendi conto Questo è pazzo Attenzione Attenzione Si amano Si amano Allora ciccio Io lo so che Marco È una persona pericolosa Ma io sono Il classico lupo Travestito da agnello Quindi è meglio Lascia stare È meglio sempre Lascia stare Però vediamo cosa succede No ma perché poi Si creano Si creano queste cose Un po' brutto Ma tranquillo ciccio Lo sai che il rispetto enorme Provo per tuo fratello Ma anche lui Lo se ne rende conto Probabilmente In quanto demente Però è così È così Vabbè Ma no Ha una comicità diversa Ma va fa culo Mario lecca culo Simple del cazzo No 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 Scherzo Scherzo Non mi è scappato Questo non è Io voglio Io voglio Che tutti abbiano La pace La libertà Di insultarsi Per scherzo Quanto cazzo gli pare Bravo Bravo Mario Bravo Bravo Questo è un altro Discorso più complesso Sfaccettato Che tra l'altro Sono stati fatti Sono stati fatti Più volte Anche queste sedi Sì Sì Per quello Infatti Surry Disse Alessia Lanza Una cosa che mi ha colpito molto Perché Surry Non se ne accorge Però le dice le cose A me rimango impresso Disse Stai attenta Perché Dario è una persona Che quando devi dire delle cose Le dice Non si fa problemi nel dirle Ti avverto Perché aveva paura Che potessi dire qualcosa Alessia Per fortuna Poi non è Non è stata Era molto simpatica Alessia In realtà Non è stata simpatica Per essere una tiktoker In gamba Cosa significa Stato qua Scusa No Che è una piattaforma Che non conosco Tiktok Io amo tiktok Io penso sia Una delle piattaforme Più belle Anche perché Intrattiene E trovi anche Roba molto figa A volte trovi Cazzate Però è molto bello Fino alle 7 di mattina Ci sta su tiktok Dice buonanotte alle 4 E va su tiktok Ma a me è una Guarda Se posso dire la mia Mario Ma è una droga virtuale Che è una droga pesante Ma vabbè Sì sì La lascio passare Guarda La lascio passare Ecco per esempio Vogelita Te sei vogelita Cioè volevo andare in ordine Ho sbagliato Lucilla Te lo segui tiktok Sei un'appassionata di tiktok No Perché non ho tempo Però ci ho pensato Qualche volta Non ho nemmeno un account Su tiktok Nemmeno io Cioè ce l'ho Non saprei nemmeno Che push Su tiktok Ti fai un'idea Quando Tu puoi anche seguire i trend Nel senso Non devi forse Fare un'idea tua Meglio se ce l'hai Però Comunque tiktok Funziona anche a trend Se vedi che un trend Tutti lo fanno in modo uguale Ognuno mette la sua È figo farlo È vero È vero Però io non so Se ce la faremmo Non mi piace Il concetto di contenuto Zippato Cioè è troppo veloce Forse come fruizione Sì è troppo immediato È troppo immediato Però questo non è il bello Perché comunque È l'immediatezza Che piace Il senso Tiktok Io amo tiktok Perché tu Basta fare un swipe up E effettivamente Vedi un altro video Di un'altra cosa Invece secondo me Questa immediatezza È molto dannosa Nella nostra società Perché non sappiamo Più aspettare Vogliamo tutto subito Ci annoiamo davanti I film Tutte queste cose Vabbè No 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 L'uscita va bene Non che la società Sia un toccasana Comunque Cosa? Non che la società Stessa sia un toccasana No ma caldo Infatti Sia da speciarsi la crema Da quello che normalmente Non faccio Che fanno tutti Ecco Vero vero Ognuno si può approcciare Ti puoi approcciare Anche a tiktok Immagino In modo diverso Cioè Ovviamente 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 Ci mancherebbe Meno male Meno male È che siamo andati un po' A ridurre E con youtube Mi sono accorto Beh poi io parlo Del mio youtube Che a youtube Facciamo questi documentari Noni grossi Poi siamo passati A le clip fributate Di Su youtube Di twitch E infine tiktok Siamo andati sempre più A stringere Però c'è tanta gente Che anche ama Amano Ora su youtube Ci sono i shorts Sì è vero Però ci sono tante persone Al contrario Anche giovanissimi Che amano i contenuti Di un'ora Un'ora e mezzo Così in sottofondo Di gente che chiacchiera Guardate come è esploso No? I podcast Già Ti ingazzi il culo E pisci la letta Una cosa Che io adoro Di tiktok È che l'algoritmo È Super Malleabile Mentre scorri Cioè Loro in base a quanto tempo Passi su ogni singolo video A quanto interagisci Quante volte riguardi un video Il prossimo video Sarà molto più simile Al tuo mood di quel momento È anche in base all'orario In cui lo apri Cioè quando apri tiktok Difficilmente rimani deluso Perché l'algoritmo Sa cosa vuoi A me escono sempre I punti neri Da schiacciare Infatti Ma quella non Ti rilassa Anche a te Io non riesco a capirvi Non riesco a capirvi Mr. Popping Ma pure il liquido Che esce Il pus Vi piace? Ragazzi Porco duro I vermini Sì I punti neri No è interessante Perché mi ripara il caso Marti Il problema è che da quelli Di solito Arrivano subito Anche quelle Che dove devono Proprio andare di bisturi Con le ceste No Quello no Quello non mangio Eh no Perché poi Tiktok Vuole sempre di più Dalla tua persona E poi mi riusciono Il punto nero Poi c'è i buboni Dar buboni E l'operazione Di monolinguire Ma va a fare È schifo Guarda io Io ho passato Un'adolescenza Un po' strana Perché diciamo che La mia faccia Di quanti brufoli avevo Praticamente era Sai quando Collega i numeri E te c'è il disegno No? Buon Ero messo Ero messo in quel modo E mi ricordo Mi ricordo che Tutta Tutte le ragazze Ma soprattutto Le ragazze hanno questo Felici per questo Non so perché No no Anche i ragazzi Ti giuro Cristo Non ne ho mai trovato qualcuno Nessuno di voi? No Felici per i brufoli? A me Non me lo c'è Il fetico Il fetish Per vedere i brufoli Schiacciati A me lo c'è No Il fratello Il potere è Il reale Cioè ma guardare i video O esercitare Il loro Guardare i video No i video I video Ah ok Non so se io non ce la fa Agnese Agnese le piace A me non tanto Diciamo Che pompa Tu Parlando progettivamente Non hai bisogno Di altra visibilità Cioè tiktok Cioè tiktok Diciamo che È buono Sì può darsi Può darsi Non lo so Proprio perché Boom Anzi da poco Su tiktok Vanno anche i freeboot Adesso metto in freeboot Dei twitcher Su tiktok Minchia ho visto Ho visto Veramente tremenda Ecco esatto Però Ecco le gatti La bibbia Ti si è male Ma andrà avanti Io sul tiktok Seguo solo preti Ma guarda Questa è oggettivamente Una cazzata muto Di sceminato Minchia Me ne consiglio Qualcuno bello Manuale del trapper Manuale del trapper Ma dove l'hai trovato Quei libri Ma cos'è Poi sembra vecchissimo Vabbè il trapper Ragazzi La trappata Ma che cazzo è E' una bella Necronomicon Questo Ecco lo scaldi Ma questo Mi è stato regalato Da un mio amico Che ha 94 anni Apparteneva Ma è quello Quello che raccontavi Che stava sopra Di te Quello del video Ma è di coccodrillo E questo apparteneva A suo fratello Che era console italiano In Egitto E' un Portadocumenti In pelle di coccodrillo Che ha più di 100 anni Beh è una bellezza rara Sì Molto Anche Mamma mia Inquietante Dentro è in vitello E vabbè 100 anni Vabbè A quei tempi Sapevano una sega Cioè figurati Vabbè Dicevi 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 Una persona Che vuole fare successo Deve andare su tiktok Per forza Almeno come prima piattaforma Youtube Fanculo Twitch Fanculo Secondo me Tiktok Tiktok è la prima Sì perché Ad esempio C'è anche gente Che ha fatto tiktok E poi da tiktok Si sposta su twitch E ha fatto un macello Vero Vero Quindi capisci Il potere c'è là Solo che la gente A volte non sa come usarlo Nel tuo caso Secondo me Non c'è bisogno E manco lo usi Cioè per guardare Sì ma per creare Contro di là Secondo me no Poi dipende Eh capito Da pensare già tante cose Figuriamo Si mette a fare tiktok Eh già Già Esatto È vero Surry Ma cos'è Ma Vabbè Magic Vabbè E Anche mio papà Ha quel libro lì Eh Questo è È Crowley Tu padre È un seguace Di Crowley Da Da ragazzino Sì Grazie Alessic Ebbè Faceva Ma che cazzo State facendo Tra tutti Boh Io veramente Non ho parole E Cos'è Ma poi dove Ce l'avevi Sta roba Le cose Misurabili È un È un libro Molto bello Sì quello l'avevo capito Gattonese Che parla di tutte le cose Che non si possono misurare E quali sono le cose Che non si possono misurare Eh Molte le devo leggere Ma ti pare Che l'ho letto L'ho comprato Solo perché sono un poser Infinità del cazzo Che me ne frega Immagino che sia il primo Voi avete comprato Delle robe Che Che Volevate a tutti i costi E poi quando L'avete comprato Vi siete accorti Che non servivano Una sega Che avevate buttato Via i soldi Io l'ho appena fatto L'ho fatto Cioè Ho preso Ho preso questo zippo Ma che cazzo è Che rimanevo senza Questo è un libro Ah certo Suri ma che cazzo fai Non aprirlo Piano Non aprirlo troppo No Non è così fragile Non può buttare al cesso Se gli pare Non è così fragile Come sembra Catroia Molto bello Per 1800 Sì E' una storia In realtà Tradizionale cinese Che è stata Riadattata in Giappone In quegli anni Però è Molto cazzuto Bellissimo Molto cazzuto Non mi dire Quanto l'hai pregato Dimmi solo La base d'asta No Non è costato tantissimo La base d'asta Sera stata Intorno ai 100 200 euro E alla fine Cioè E' salito un po' Perché c'era uno stronzo Che lo voleva anche lui Però Per 800 euro Che per un libro del genere Non è neanche troppo Beh no Che figata Cazzo però Mamma mia Sì 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 Poi l'ho guardato Al microscopio E' Fighissimo Vedere l'inchiostro Di 200 anni fa Ma vorrei anche vedere Ma non ero io Non ero io Andrea Che ho Ho partecipato all'asta Io vabbè Posso dire le carte Tutte le carte che ho Sono totalmente inutili Superfluo E però Ce l'ho Mi piacciono Le figurine Sono la mia vita Non ci posso fare Il collezionismo Vabbè Io tutti i giochi Che ha proposto Dario E gli altri Per la Tomodaci Durati tre secondi Comprati Vabbè Dissing Però così Ha senza senso Ma è vero È vero Io ho preso Tanti di Giochi 100p e Mule C'avevo Red Dead Redemption 2 Per PlayStation Finito Tre miliardi di volte Ma dai Facciamo L'RP Va bene Per PlayStation Non puoi fare l'RP Appunto Ce l'avevo Mi lo sono comprato Anche per PC Per fare l'RP Cos'è Quanto l'abbiamo fatto L'RP di Red Dead Redemption? Quanto? Cos'è quello? Ma cos'è Questa è un'opera Di un mio amico Che si chiama Jan Wormann Che è l'artista Che nel 2006 Ha diciamo Iniziato a lavorare Con i Lego Nei muri L'ho conosciuto A Venezia Un paio di anni fa Lavorando insieme A Guggenheim E mi ha spettato Questa opera È un mattone Lego Cioè È un mattone vero Rincollato Con dei pezzi di Lego Abbastanza figli Wow Michi che figata Però questa roba qua Minchia Mario Non abbiamo niente Da mostrare Non c'è un caso Ho un airwik Che Caspita Che profuma Dario potresti darmi Lo schermo Così lo faccio vedere meglio Allora Ho un airwik Che profuma D'arancia In pratica Nel momento In cui io lo spruzzo Per la camera La camera Si prende Dell'odore Che c'è qua dentro Nel tubetto E comunque Non si può infiammare Per chi Per chiunque E niente Anche sempre No ma scusa Martin Fai vedere Quella roba di Crumb Che hai tirato fuori Eh Caspita È il numero zero Di una rivista underground Del 60 Eh vabbè Robert Crumb ragazzi Stiamo parlando Di un peso massimo Assoluto Senza problemi Sì sì Arancia ragazzi Sono ubriaco Vai ragazzi Ma invece Mario scusa Posso Mario Il teschio Rectangulus Ma vabbè Suri Che succede Dario No cioè Quella cosa sta facendo Cosa sta facendo Era Suri Questo è un piccolo flexino Ma è un trove Tutti altro Teste calde Libro di diamante Merda Il libro di diamante Ma poi esiste Il libro di diamante Ma che cringiata è L'ha inventato Mondadori Perché eravamo stati primi A superare tipo Le centomila copie vendute Allora hanno fatto Una roba Del genere Però comunque sì È fatto malissimo Potremmo rifarlo Io Qualcosa flexare Io Io ragazzi Allora ecco qua Io praticamente Ho questa Allora aspetta Aspetta Che voi adesso Mi direte Può cambiare Può cambiare Funziona bene Può cambiare colore Non funziona più Il telecomando Questo non vuol dire Che è Ma praticamente Game over Game over Perché praticamente Vi spiego un po' Lo che è successo Mi contatta Questa Questa Piccola azienda Questo negozio Che mi dice Ciao Vorremmo mandarti Una di queste lampade Sponsor Minchia bro Certo Ok Io vi chiedo subito Guarda Non vuole essere Un pezzo di merda Ma il budget Qua Il budget E tu guarda Facciamo così Una storia E un post 80 euro No è troppo Come budget Ok Facciamo così Solo storia Arriva a 70 Non di più Ti dico 10 euro Ok E questa data Che è successa Due mesi fa Ancora oggi Aspetto risposta Ho ricevuto questa Ma non ho ricevuto altro No dai E oltretutto Non cambia il colore Esatto Pure quella Cioè Oh Oh No Niente Allora niente È bellissimo È bellissimo Cicciata E voi gli spruzzo Il profumo D'arancia All Io non ho parole Ciccio Ma davvero è successo Questo Sì una cicciata In diretta Sì Questa è una cicciata Grazie ragazzi E più che altro Io ce l'ho una cosa Dove ho speso Tanto tanto E non mi serve a niente Cioè Che cos'è Nastrini Nostrini Cosa sono Questi sono Washi tape Sono i nastri Di carta Giapponesi E cosa servono Per decorare Le pagine L'hai decorate mai Decoupage Anche io Ho una cosa Stupidotta Da far vedere Cioè Non lo sono questi Ovviamente Vediamo Sono proprio curioso Vogelita Te invece Vabbè A te Vedere questa Mi ho una canza Che ha rinunciato E sì Infatti Bella 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 Bello lui Vabbè Non è così inutile Ti fa compagnia E' carino E' bellino Un po' inquietante Però è bellino Ricordo un po' Vabbè Ora state tirando fuori Semplicemente Con lo cavetto A portata A fanculo Cioè Quell'altro Cosa ha tirato fuori Come è quello Sì Bello 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 Ma è un tacchino Vai facci vedere Cos'è un pezzo di tavolo Cos'è Vabbè Questa costa 10 euro Su Aliex Sì Sente cose In caso devo dire Vabbè Vabbè Un cappollo Bello il cappollo Mamma mia Sei bellissimo Grazioso E invece Siate sinceri Qual è il regalo Più brutto Che avete ricevuto Posso Inizio io Va bene Ok Io Ho una scuola di danza A Messina E a Natale Tipo Facciamo questo da qua Dove Praticamente Ognuno comprava Un oggettino E poi Con il sorteggio Ognuno andava Un regalo No Una cosa molto carina Ciccio tocca a te Arrivo io E mi danno Questa Candela piccola Così Era un albero Di Natale Rotto E quando Mi ho notato Ho detto io Ah Bello E mentre E la cosa Mannaglia E la cosa Porca miseria Quando sono tornato A posto Per stermi Sono pure caduto Per terra Che regalo di merda Mamma mia Infatti sono la casa L'ho buttata L'hai fatto bene E' la cosa più saggia Ma non si buttano I regalami Invece si buttano E come si può schifar cazzo Lucia Ave pazienza Vediamo il tuo E Lucia Lava il tuo Che fa tanta la furba E' un regalo Un regalo strano Un regalo strano In seconda media In seconda media Mia zia Mi ha regalato Un libro Sulle torture medievali Non è uno scherzo E invece Ti scrivi Mi hanno regalato Una borsetta Pitonata Bluta Amarra Con le borche Cioè Di cose così Che io Non uso ste robe Non compro borse Ne ho tipo una E non mi sono riuscita Neanche a trattenere La cosa brutta E' stata questo Mi hanno fatto Ti piace? E io Sì Proprio così Non ce la faccio Con Con i regali Brutti Lo devo dire Cioè lo devo dire Che sei proprio Un testa di cazzo Anche te Anche te Fai così Vole lì Sì A me si nota A me si nota Il mio Credo che mi sia notato Tutto dal viso Quindi non riesco Neanche a dire Ah si mi è piaciuto un sacco Si vede Quali sono gli ultimi Che hai ricevuto Che ti hanno fatto fare Con la faccia lì? Ma guarda Per assurdo Mi hanno regalato Il mio videogioco preferito Ma Cioè Kingdom Hearts 2 È uno dei miei videogiocchi preferiti Il mio ex lo sapeva benissimo L'ho giocato 20.000 ore Ok Me l'ha ririgalato Cioè Mi ha regalato il gioco Di Kingdom Hearts 2 Ma perché? Nonostante Ma tu lo sai? Io sono cresciuta Con quel videogioco Lui me l'ha regalato Tale e quale Forse è per quello Che è diventato il tuo ex Se ci pensi Invece Martini Te avrai ricevuto Il regalo brutto Cioè Quei regali di merda Si però Ci stavo pensando Del mentre Che parlavate dei vostri Che i regali Che consideravo brutti Col tempo Li ho rivalutati Cioè? Bello Mi erano stati regalati Mi è stato regalato Una certa Un insieme di fumetti Di Lauzier Che è un autore francese Che quando avevo 14 anni Li feci Boh Poi li ho riletti Più di recente E ho capito Che invece Era un ottimo regalo A me Invece Il medico di famiglia Storico Che era amico di mio padre Mi faceva sempre Regalo a Natale Una volta Mi regalavo Una macchinina Radiocomandata Io ero molto felice Perché era un bambino Una macchinina Radiocomandata Intanto Quegli altri vanno avanti Era una cosa stupenda Il giorno dopo Sì il giorno dopo L'anno dopo Sono un po' ubriachino Mi regalò un paso Da mille pezzi Di una barca a vela Che pal E avevo tipo 8 anni 7 anni Io ricevetti Questo regalo Orrendo E iniziai a piangere Dalla felicità Perché no Dalla merda Perché io aspettavo Un regalo Cool Come la macchinina Radiocomandata Invece era un paso Di mille pezzi Questa barca A vela A ferma Con questo cielo Azzurro Marcio Una merda Impossibile Completare una cosa Di genere Complicatissimo Per un bambino Perché metà Dell'illustrazione Era un cielo celeste Tutto uguale Mi spieghi come cazzo Fai a completarlo E pianzi Da quell'anno Quel dottore Hai sempre odiato I puzzle Non mi regalò più niente I miei genitori Mi dissero Siamo poveri Dovevi sorridere Almeno avresti guadagnato Un regalo in più Ogni Natale E invece Non ce l'ho fatta Era una merda Va bene Andiamo avanti Infatti la morale È paracularsela Con i regali brutti Che sennò Poi i regali Non te ne arrivano più Sì sì Noi ormai siamo un banale Noi ormai siamo diventati Un banale sottofondo Per Mario e Ciccia Ma va benissimo Fiero di esserlo Eccoci qua Micchia che spinta Ciccio Una scena Dove si fa in teatro Questo è Brachetti Totale Se ne sei citato prima E quindi Non prendere con me Questo però È Sea of Thieves No? Questo è Sea of Thieves Non ve ne dircazzate Con il numero Però Io Ho qui Uno dei soli 12 esemplari Al mondo Dell'Xbox Personalizzata Le Sea of Thieves Perché Magheggi E Non l'ho mai Avviata No no A parte quello Ma quante volte hai giocato A Sea of Thieves? Ah un botto Mi piace Meno male Allora A me La mia Primissima Fidanzatina Regalò Un profumo Che era Nauseabondo Alex E che praticamente Fini Cioè Lo usò Mia mamma Quando cambiava Le terra ai gatti Per dare un po' Di aria Profumata Alla Alla lettiera Buttava un po' Di quel profumo Ed è stato usato Quasi tutto così Perché faceva Era osceno Se sto Per la spola Shika Volevo un attimo Chiarire la cosa Di Outpump Ho fatto queste foto E ragazzi Io Devo dire la verità Quegli outfit Non me li hanno lasciati Mi avete scritto In privato tutti Ciao Sì certo Certo che te lo passo Marco Non posso scendere Ma Ok Dai dai Non interrompere Questa voce Non interrompere Non interrompere Marco Che poi c'è Che poi c'è Tavernell Scusate ragazzi Questa voce Questa voce Non mi è nuova Comunque Marco Merrino Signore e signora Era Marco Sì mi sembrava Marco Infatti sì No dicevo Mi hanno invitato E l'ho fatto Perché volevo uscire Un po' dalla mia zona Di comfort Io che vado sempre A giro con Tute e pigiame Ho detto Beh potrebbe essere Interessante fare Questo outfit Infatti stai da dio In quella copertina Non mi rimetterò Ma Sì ma infatti Nella copertina Sembra che ci sia Solo io Cazzo Perché subito L'attenzione Guardo in macchina Subito Poi E sono vestito Blu Elettrico E poi soprattutto Guardano tutti in macchina Comunque No Solo che tu sei molto egocentrico Quindi guardi solo te stesso Ma è giusto così No Suri Non è andata così Non è andata così C'era la fotografa Che mi ha detto Che gli piaceva L'espressione Le piaceva L'espressione Incazzata È vero Vanno molto E me l'ha fatta rifare Mi ha detto Guardami Guardami con l'espressione Incazzata Bastardo Comunque è stata Un'esperienza Molto divertente Non mi hanno lasciato L'outfit Tranne le scarpe Della Adidas Edizione limitata Però è stata Un'esperienza Veramente molto figa Molto molto figa C'era anche Barengo Sì Ah un'altra cosa Ragazzi Io non ho conosciuto Quelle persone C'è Quella copertina È un fotomontaggio Ce l'hanno fatte In separata sede Uno per uno Quindi non ho conosciuto Nessuno di quelle persone Che vedevano Fai conto che In quella copertina In alto a destra Il ragazzo vestito Tutto di beige Marrone È mio conquilino Ah ok Eh non l'ho conosciuto C'era anche Klaus Klaus Eh lui Tudor E Barengo Ma chi è Barengo Ragazzi Non ho capito Barengo Io l'ho scoperto Certo secoli fa È un ragazzo Che andava in giro Per Milano E chiedeva Gli outfit Ah quello che valutava Gli outfit E diceva quanto costavano Io lo conosco per quello Più che altro C'era uno che l'hanno fermato Cappottino Quattrocento Loro E praticamente Faceva il totale Di quello che Che costava Barengo è un personaggio Diciamo che è un influencer Della moda Forse tra i più rispettati In Italia Una cultura Serio Sì sì Quando si parla di moda Davvero è un'enciclopedia Dia vivente Fa consulenze Per tante aziende È un grande Sia lui che il socio Casa mia Più o meno Come un outfit Surio Non riesco Fisicamente A spendere Più di 5 euro Per quello che Mi metta addosso Io non c'ho Mercato di corso Allora Non è un ragionamento Sbagliato Però per dirti Non è che uno Deve spendere tanto Per vestire bene Se vai da Uniqlo Se vai da Cos Zara Magari Con 20 euro Compri delle magliette Che hanno un fit Della madonna E lì c'è un altro discorso Perché chi decide Di fare l'archivio In qualche modo È come acquistare Forse Quasi delle opere d'arte Ci sono dei capi D'abbigliamento Che tu compri oggi Magari a 1000 euro E tra 10 anni Ne possono valere 8, 9, 10 mila Quindi c'è anche Vabbè Vabbè Quello ok No però Lo sai Salvatore Qual è il mio problema Il mio problema è Affrontare Lo shopping Cioè io non riesco Ad alzarmi Cioè alzarmi Bisogna andare insieme Lo diciamo sempre Non lo facciamo Organizziamo Fissiamo la data Io lo faccio anche Però Lo sai che mi stancherebbe Anche con un amico accanto Per esempio Voglio chiedere alle ragazze Voi A parte voi sì Perché comprate Gli outfit anche per lavoro Però Cioè voi garba Fare questa roba qua Oppure vi vestite tutti Io odio Uscire per i negozi A comprare abbigliamento Compro tutto online Ok No ma vabbè Ma lascia Però anche quello E fare shopping Anche se lo fai online Però che palle Io mi rompo L'abbinamento dei colori Cose lo che mi stanno Mi piace No ma non piace No ma io per un fatto Che non mi piace Neanche Tanto badare Tanto quello che indosso Come mi presento fisicamente Quindi proprio E quindi come ti vesti Quello che capita Capita la norma Ti lo butti dentro E via Sì il più largo possibile Quello che capita Cioè si può notare Anche dai live Io lo apprezzo Io lo apprezzo un botto Per esempio Perché Se mi guardo il meno possibile È meglio Il concetto è quello Il mio sport è andare a fare Gomitate con le vecchie Ai mercati rionali Nei cesti Tutto a un anno Quello spazio Gli specchi Che sono fatti apposta Per fatti sembrare Ancora più Pionzo Ma poi la fila La gente Oh hai fatto Io sono lì Corbuzzo di fori Madonna È palle Non ho voglia E hai una domanda Ho preso il piccolo libro Delle risposte Quindi Certo Quello delle domande Allora facciamo Questa combo incredibile Dario ci metti vicini Per favore Grazie Esatto Vai Grazie Allora Se poteste essere Lo chef Di un qualunque Ristorante al mondo Dove vi piacerebbe Cucinare? Non so se questo Funziona Con le risposte Però ci proviamo Dice Non forzare le cose Quindi si vede Che non è caso Di andare a cucinare All'estero evidentemente Forse non cooking È quello che fa per noi Se per uno che non ha Esperienza in cucina Mi sembra una risposta Eh già va bene Giusto E dai che proviamo Aspetta un attimo Se poteste disegnare La nuova bandiera Del vostro paese Usando un solo coloro E un'immagine Che aspetto avrebbe? Eh sono domande Troppo specifiche Per questo libro Però poi dice Preparateli ad affrontare Un imprevisto Quindi Ovviamente Non deve essere Sempre Qualcuno di colori Ma non va finito Esatto No questo Cioè il piccolo libro De risposta è più su Cose personali Tipo Dario dimmi Una cosa Che vorresti fare Secondo te ci stavano Comunque le due risposte Riaprirà mai Sì anche secondo me Mi venivano in mente Il ritorno Di certi voti Separatisti No? Perché vuoi fare Il nuovo La bandiera Qualcuno dice No Interpretabile Riaprirà mai Il Giappone? Dice di chiarirti le idee Eh sì Perciò chiarite fin troppo Dio madonna Il mio 2022 sarà bello Vai In questo momento Meglio non chiedere No Chiedi anche il mio Ok allora Io apro eh A caso Dai bimmi Ma perché E' una cosa che non dimenticherai Il 2022 Minchia Non è E' una cosa che può essere Sia positiva Che negativa Comunque Dario Ma tu quando torni in Giappone E torni per cazzi tuo Io fai uno Dei tuoi viaggi Se fai uno dei tuoi viaggi Contami Se mi dici così Faccio uno dei miei viaggi A posto Possiamo anche andare Per cazzi nostro E facciamo una compagnia nostra Volendo Però se fai il viaggio Ma sta superando in curva Dobbiamo fare la roba Con la Tumodachi E mettiti in fila Non ho capito Allora Innanzitutto stai calmo Non ti attraverai male Il mio fratello Suri Vabbè Abbiamo i viaggi separati Cioè arriviamo tutti Si fa una settimana Mi è venuto in mente Perché l'ha scritto Nanni No 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 Quando riapro in Giappone E poi il resto Ma che Kawuki show Ti rompi i coglioni Dopo un po' la pagazione Comunque No no Voglio fare il format Cioè il format La serie Tumodachi in Giappone Però bisogna vedere Uno se mi danno soldi Due quando riapro in Giappone Tre ciao Cioè a voglia Vedremo 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 Ci sono tante cose da fare Quando riaprirò in Giappone Va bene Qualcuno ha un'ultima domanda Poi poso il libretto Perché se fate una certa Grazie a Jack Jump Nessuna domanda Se rimarreste bloccati Per sempre In un'isola deserta Con un unico libro Da leggere Quale ne sarebbe il titolo Ma non c'è questo Nelle risposte Troverai la risposta Scrivendo Eccoci Un libro Scrivendo un libro Scrivendo un libro Bellissimo Quello che scriverai E ti rileggi Quello che scrivi Allora Ringrazio ovviamente Surry Sempre gradita La sua presenza al pub Anche perché Ultimamente sta diventando Sempre più presente Ringrazio Martini Sempreverdi Grazie Chris Grazie a essere tornata Ben tornata anche A Voghelita Grazie a Mario Ciao ciao Grazie a Ciccio Benvenuto No 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 Mario Cos'hai detto Mario E poi? No no va bene Nel senso virgola tipo Poi Ciccio E grazie ovviamente All'uscitazione Al Tizio A Nanni E a Dada Per essere passati Dada Per l'altro è scomparso E poi chi c'è stato? Nessun altro E Hai riso E riso E marra E marra E passato marrone E marra E Dada E Dada E Dada Grazie a tutti Grazie per averci seguito Vi abbraccio forti Io continuo a giocare Invece a Ciao a tutti Buonanotte Ciao Buonanotte